Buongiorno, buon lunedì mattina, benvenuti al nostro speciale del Tg dedicato ai risultati delle elezioni italiane, dopo la lunga diretta di ieri tutti gli aggiornamenti che hanno dato i colleghi adesso i risultati sono un pochino più definiti, i commenti sono più semplici anche se c'è molto ancora da scoprire perché lo scrutinio dei seggi non è ancora terminato, lo scrutinio del voto è ancora lontano per quel che riguarda i risultati definitivi ma le prime proiezioni, i primi risultati sia dei risultati uninominali sia delle proporzionali si hanno già e sono dei risultati che danno un netto cambio di tendenza per il nostro paese faremo una panoramica su tutto quello che è successo in Italia e in regione con alcuni ospiti che ci raggiungeranno durante il corso della mattinata e ovviamente con gli aggiornamenti continui dal web, con i commenti, le analisi e gli approfondimenti che ci arrivano anche dalla rete, per questo do il mio buongiorno alla mia collega di questa mattina Monica Nardini, buongiorno Buongiorno Valentina, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori, ovviamente avrò il compito in questa nostra lunga diretta di aggiornarvi con i dati a mano a mano appunto che si completeranno gli scrutini possiamo Valentina, che dici, già dare un'occhiata per quanto riguarda il sito del Ministero andiamo a vedere innanzitutto la situazione nazionale per quanto riguarda, partiamo dalla Camera Allora andiamo a vedere come si presenta attualmente con 47.072 sezioni scrutinate rispetto a 61.041 vediamo ovviamente il centrodestra continua, la coalizione di centrodestra a rimanere con il 30 sopra al 37%, 37,6% con la Lega al 18,18%, Forza Italia al 13,84%, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni al 4,33% noi con l'Italia Udc all'1,29%, il Movimento 5 Stelle come detto il vero esploit con oltre il 31%, adesso siamo a 31,88% come percentuale, poi per quanto riguarda la coalizione di centro-sinistra siamo al 23,46% col Partito Democratico che continua a essere al di sotto della soglia del 20% con un 19,15% mentre più Europa non ha al momento raggiunto la soglia del 3% al 2,66% e Italia e Europa insieme, Civica Popolare e Lorenzini poi il resto anche sono al di sotto dell'1% mentre ha superato la soglia del 3% al 3,47% liberi e uguali e poi appunto il resto dei partiti. Per quanto riguarda invece la situazione generale al Senato sul fronte scrutini, adesso vediamo i dati proposti su 51.737 sezioni rispetto a 61.401 coalizione di centro-destra al 37,57% con la Lega sempre al di sopra del 18%, 18,25% e Forza Italia invece al 14,32% mentre Fratelli d'Italia è 4,27% e noi con l'Italia a 1,2 circa per cento. Il Movimento 5 Stelle anche qui per il Senato è sopra il 31% 31,66% e per quanto riguarda la coalizione di centro-sinistra siamo al 23,44% col Partito Democratico anche al Senato sempre sotto la soglia del 20% e per quanto riguarda, andiamo a vedere ancora, liberi e uguali siamo al 3,31% Adentrandoci Valentina, non lo so, lo vediamo tra un po' o ci addentriamo? La data è scocchiata, soprattutto... Continuiamo col Senato, se sei d'accordo. Andiamo ovviamente nella nostra regione, in Friuli, Venezia, Giulia diamo uno sguardo di insieme, attualmente rispetto a 1.327 sezioni scrutinate su 1.369 abbiamo in la più alta percentuale riguardo alla coalizione di centro-destra 43,73% con la Lega al 26,25% Forza Italia 12,16% Fratelli d'Italia con Giorgio Meloni al 5,6% quasi noi con l'Italia Udc all'1%, poco più dell'1% Movimento 5 Stelle invece al 24, sopra al 24% per quanto riguarda la coalizione di centro-sinistra siamo poco sotto al 24% col Partito Democratico sempre al di sotto della soglia del 20% siamo al 19,31% Andiamo a vedere ancora Liberi Uguali che non ha raggiunto nella nostra regione il 3% siamo al 2,91% e poi ovviamente tutti gli altri partiti che non sono al... siamo a Casa Pound, candidati uninominali che ha passato l'1% ma tutti gli altri vediamo sono inferiori come percentuale all'1% Andando più nel dettaglio a vedere il collegi, andiamo a vedere Trieste e Gorizia la situazione come si presenta ricordiamo al Senato, andiamo a vedere per quanto riguarda la coalizione di centro-destra, Laura Stabile al 39,37% come candidato uninominale mentre Riccardo Illi, sostenuto dalla coalizione di centro-sinistra è al 26,57% Pietro Negli è al 25,88% ovviamente per il Movimento 5 Stelle Serena Pellegrino al 3,35% e poi tutti gli altri c'è Claudia Cernigoi, Potere al Popolo che è all'1,08% Monica Tessa all'1,06% questo per quanto riguarda il collegio uninominale di Trieste e Gorizia Andando sempre al Senato però spostandoci al collegio di Udine e Pordenone andiamo a vedere la coalizione di centro-destra con il candidato Luca Ciriani con il 46,47% dei voti e poi Movimento 5 Stelle Maria Chiara Santoro la percentuale del voto è 23,24% a seguire per la coalizione di centro-sinistra Isabella De Monte con il 22,29% Liberi uguali invece Federico Cazzorzi siamo sotto la soglia del 3% e così tutti gli altri candidati degli altri partiti Andiamo anche a questo punto alla Camera di nuovo a vedere la situazione Valentina giornata per il Friuli Venezia Giulia andiamo a vedere anche qui i vari collegi partiamo dal collegio di Trieste andiamo a vedere la situazione ovviamente sono gli occhi puntati in particolare Renzo Tondo e Deborah Serracchiani vediamo appunto la coalizione di centro-destra con Renzo Tondo di noi con l'Italia al 38,31% rispetto a Deborah Serracchiani che è al 25,85% e poi per il Movimento 5 Stelle Vincenzo Zoccano al 25,83% quindi un rifilo non da poco vedremo come si svilupperà andiamo a vedere quante sono le sezioni scrutinate 251 su 260 quindi tra un po' avremo i voti ovviamente definitivi vediamo appunto, lo ricordiamo Deborah Serracchiani e Vincenzo Zoccano che se la contendono vediamo come percentuale però insomma Renzo Tondo è in abbondante vantaggio col centro-destra con il 38,31% Valentina proseguiamo con Gorizia? Sì, andiamo a dare un'occhiata uno dei primi dati che mi sento di commentare guardando i primi risultati che ci stai giustamente presentando è che il Movimento 5 Stelle nelle sfide all'uninominale quindi nelle sfide che avrebbero solitamente riguardato centrodestra e centrosinistra si pone invece come seconda forza l'abbiamo visto qua addirittura il candidato delle 5 Stelle che ottiene un risultato simile a quello di Deborah Serracchiani presidente uscente insomma una figura di riferimento del PD nazionale che ottiene lo stesso risultato del candidato del Movimento 5 Stelle che evidentemente non ha avuto tutta la sua storia politica alle spalle questo è un dato su cui sicuramente le PD rifletterà ha riflettuto già anche all'interno di quelle che sono state le prime dichiarazioni di commento al voto ieri sera che abbiamo raccolto anche noi durante la nostra lunga diretta e che in seguito vi proporremo e poi avremo live alcuni esponenti politici che in prima persona potranno raccontare quali sono le prime reazioni sulle prime pagine dei giornali si è parlato molto di questo crollo delle PD un risultato sotto il 20% in Italia avrebbe significato una sconfitta per il Movimento guidato da Matteo Renzi molti chiedono la sua testa chiedono le sue dimissioni vedremo oggi che cosa deciderà il segretario democratico quello che è certo che soprattutto nella nostra regione il voto inasprisce la tendenza nazionale ovvero il centrodestra e la Lega è molto in avanti rispetto anche a Forza Italia la Lega è il primo partito della nostra regione in questo momento e quindi un arretramento di Forza Italia un avanzamento del Movimento 5 Stelle ai danni del PD che in questo momento nei collegi uninominali si trova a combattere proprio con il Movimento 5 Stelle per fra virgolette la medaglia d'argento in questo momento molti sono i collegi che sono a pannaggio del centrodestra abbiamo visto per esempio quello di Trieste con una delle sfide che erano ritenute più interessanti di questa tornata quella fra Riccardo Illi e Laura Stabile il PD aveva scelto il candidato libero Riccardo Illi proprio per presentare una figura di riferimento molto forte neppure il nome di Illi è riuscito ad avere la meglio in questo caso noi però adesso torniamo Monica a dare un'occhiata finiamo la nostra panoramica e poi gli approfondimenti le analisi le lasceremo quando avremo magari la chiusura dei seggi a te si ritorniamo a valutare la situazione per quanto riguarda i collegi relativi alla Camera allora continuiamo con il collegio di Gorizia anche qui la situazione vede il centro della coalizione centrodestra in vantaggio con Guido Germano Pettarin come candidato di nominare al 37,05% di percentuale appunto relative ai voti la Lega risulta anche qui con la maggioranza della percentuale al 22,78% rispetto a Forza Italia 9,97 poi appunto il Movimento 5 Stelle con una percentuale di voti superiore rispetto alla coalizione di centro-sinistra vediamo Sabrina De Carlo con il 28,20% dei voti mentre il candidato della coalizione appunto di centro-sinistra Giorgio Brandolin è al 25,02% Paolo Visentin per quanto riguarda i liberi uguali al 4,27% e poi tutti gli altri candidati intorno all'1% o inferiori come percentuale all'1% continuiamo velocemente questa carrellata passando al collegio di Udine un illuminale sempre riguardo alla Camera andiamo a vedere anche qui il risultato della coalizione di centro-destra con un 43,38% di voti per Daniele Moschioni la Lega andando ad analizzare appunto i partiti col 26,34% e Forza Italia con l'11,69% Domenico Balzani del Movimento 5 Stelle anche qui è un percentuale maggiore di voti rispetto al candidato Francesco Martinez della coalizione di centro-sinistra dunque Domenico Balzani 24%, Francesco Martinez 23,22% poi Chiara Casasola di Liberi Uguali intorno al 3% per Casa Pau Domenico Sguazzino 1,46% poi Diego Navarria intorno all'1% e a seguire tutti gli altri qua vediamo che le sezioni scrutinate per quanto riguarda questo collegio luminale di Udine sono 277 su 288 continuando con il collegio di Codroipo e Alto Friuli vediamo anche qui il risultato la triestina Sandra Savino contro Silvana Cremaschi e Aulo Cimenti anche questo scambio aveva fatto un po' così pensare nei primi in campagna elettorale con appunto Tondo a Trieste il carnico a Trieste e la triestina in carni a Sandra Savino vediamo come sta andando anche qui si rispecca un po' quanto vista nelle precedenti circoscrizioni siamo sempre alla Camera lo ricordiamo coalizione di centrodestra con Sandra Savino con il 47,82% dei voti la Lega anche qui come sempre il partito all'interno della coalizione con la maggior percentuale di voti quasi il 31% 30,78% e Forza Italia al 9,91% rimarchiamo anche questa percentuale Aulo Cimenti Movimento 5 Stelle al di sopra sul 22,75% circa quindi anche qua un risultato percentuale migliore rispetto al candidato della coalizione di centrosinistra appunto Silvana Cremasti al per ora 20,33% per quanto riguarda Liberi Uguali Carlo Pegorair la percentuale di 2,62% quindi al momento al di sotto della soglia del 3% Serena Sandi Casa Pant all'1,51% Massimo Morettuzzo per il patto per l'autonomia all'1,46% e poi a seguire al di sotto dell'1% i candidati degli altri partiti velocemente diamo uno sguardo anche all'ultimo collegio che ci manca per quanto riguarda la Camera collegio 150 sezioni scrutinate rispetto alle 288 complessive risulta avere il 18,91% dei voti mentre Forza Italia è a circa il 7,8% poi Fratelli d'Italia al 4% circa noi con l'Italia al di sotto dell'1% Movimento 5 Stelle anche qui risulta avere un risultato migliore al momento rispetto al candidato della coalizione di centrosinistra Giorgio Zanine per il Movimento 5 Stelle Giovanna Scottà è al 23,20% come leggiamo assieme mentre Giorgio Zanine al 22,18% per quanto riguarda poi vediamo Liberi Uguali Velia Cassan siamo al 2,44% e fatto per l'autonomia Marcus Mormare all'1,59% poi a seguire gli altri partiti ma vi terremo aggiornati ovviamente fatto per l'autonomia tra l'altro che ha chiarito nelle prime interviste nelle prime dichiarazioni che questo era semplicemente un banco di prova in vista delle regionali ma gli autonomisti potrebbero essere davvero una spina nel fianco per quel che riguarda le regionali dove comunque il voto di protesto il voto così un posizionamento politico ha meno importanza mentre si guarda solitamente di più al candidato con legame maggiore legame al territorio però questo è tutto da vedere perché questi risultati clamorosi che vedono la Lega e il Movimento 5 Stelle i veri vincitori di questa tornata elettorale sono stati inaspettati erano inaspettati anche per i partiti nazionali ieri all'interno del nostro approfondimento condotto da Francesco Pezzale insieme ad Angela Accaino abbiamo sentito anche in esterna insieme alle varie truppe che erano dislocate sul territorio regionale alcuni pareri alcuni primi commenti allora andiamo a sentire chiedo alla regia se può andare a recuperare qualcuno degli interventi di ieri sera che abbiamo registrato e che vi adesso vi proponiamo commenti ovviamente a caldo dopo gli exit poll i primi risultati degli scrutini abbiamo sentito Luca Ciriani per Pordenone abbiamo sentito Isabella De Monte per il PD in studio c'era anche Mauro Mazza che ha fatto una sua profezia su quelle che sono su quelli che pensava potessero essere i risultati finali però io direi visto che la sconfitta dell'EPD o comunque il risultato negativo dell'EPD è decisamente evidente direi di sentire Isabella De Monte che dovrebbe essere stata intervistata ieri dalla nostra Luciana Idelfonso nella sede del PD in modo da poter ascoltare qual è il commento dell'esponente del PD che ovviamente era candidata nel collegio di Udine sentiamo il presidente del seggio numero 22 di Udine come è andata questa giornata come è stata l'affluenza Ritorniamo in studio perché il contributo non era corretto ritorneremo dopo con i contributi dalla regia andiamo a dare un'occhiata Monica facendo una paroramica su quelle che sono le aperture di quest'oggi delle testate online Anza Corriere della Sera e Repubblica così vediamo quali sono anche i primi commenti rispetto ai risultati nazionali partiamo dal Corriere della Sera andiamo subito nel sito si sta aprendo un attimo di pazienza il titolo che leggiamo assieme appunto volano i 5 stelle torniamo un attimo su volano i 5 stelle il centro-destra prima coalizione dunque esplode la Lega superata Forza Italia adesso si aspetta a vedere cosa succederà rispetto a Renzi Renzi pronto alle dimissioni titola il Corriere se ne esco vivo va bene per quanto riguarda Repubblica andiamo assieme facciamo un refresh della prima pagina e vediamo che ovviamente anche Repubblica si concentra sul trionfo dei 5 stelle la Lega che vola mentre il PD crolla nessuna coalizione ha la maggioranza Movimento 5 stelle come visto lo ricordiamo oltre il 30% Carrozzo al 18 Carrozzo al 18 supera Forza Italia Dem sotto il 20% si parla anche dell'affluenza nazionale riportata a Repubblica al 73% Renzi pronto a lasciare accuse big di partito la Repubblica che appunto propone anche gli scenari il rebus del governo ora cosa succede? Ecco i numeri delle possibili coalizioni del futuro si ricorda ovviamente che nessuna come detto delle forze politiche in campo ha raggiunto la soglia della maggioranza assoluta ma ci sono varie alleanze in grado di dare vita a un esecutivo comunque ovviamente tutto da vedere anche alla luce di quelli che saranno i risultati ultimi e anche le tensioni come si svilupperanno e il dialogo come si svilupperà ovviamente nelle prossime ore il governo non c'è scrive Repubblica la previsione almeno su questo è stata rispettata nessuna delle tre principali forze politiche dunque si avvicina a quella soglia del 40% da tanti considerata garanzia di una maggioranza assoluta in termini di seggi alle camere e allora scrive appunto il giornalista della Repubblica certo sarà decisiva l'opera di mediazione del Quilinare ma i numeri il grande interrogativo quali sono negli scenari della fantapolitica le possibili coalizioni in grado di sostenere un governo nelle prossime legislature e poi ovviamente qua si fa una riflessione ma magari poi analizzeremo anche questi scenari Valentina con i nostri ospiti in studio proseguirei brevemente la carellata di titoli magari guardiamo ancora la stampa poi ci concentreremo anche sulle altre testate a mano a mano che proseguiremo questa nostra diretta ovviamente anche la stampa non può che concentrarsi sul trionfo dei 5 stelle ma nessuno come detto ha la maggioranza la Lega che sorpassa Forza Italia e il crollo del PD in primo piano e ovviamente su tutte le testate adesso è anche centrale la figura di Mattarella che cosa farà ora Mattarella dunque si chiede anche la stampa vedremo quelli che saranno gli sviluppi salta l'ipotesi di un Nazareno bis tra Forzisti e Dem scrive la stampa difficile infatti prescindere dai pentastellati e c'è appunto l'incognita leghista come viene titolato sulla stampa dunque attori principali Di Maio e Salvini passata l'onda delle emozioni con la mappa del nuovo Parlamento che stasera avrà in mano Sergio Mattarella potrà finalmente ragionare su maggioranze e governi mettersi nei suoi panni è impossibile forse nemmeno da augurare si scrive sulla stampa le uniche certezze per il capo dello Stato sono al momento quelle poche fondate sui numeri nudi e crudi e come abbiamo visto il primo in assoluto è che nessuna forza politica come detto ha attenuto la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato non emerge non c'è riuscito il centrodestra che emerge più forte di cinque anni fa eppure resta impattanato a una sessantina di seggi dal traguardo ma nemmeno ce l'hanno fatta i grillini che nonostante l'impetuosa avanzata sono ancora più distanti eventuali campagne acquisti si scrive ancora sulla stampa come ne abbiamo visto in passato non basterebbero a colmare il gap e allora ciò concretamente significa che si sta ancora presente in questo articolo che al momento di conferire l'incarico di governo Mattarella non se lo farà strappare a furor di popolo certo non da Salvini e nemmeno da Di Maio si aspirerà a governare si scrive ancora sulla stampa dovrà presentarsi al Quirinale forte di una maggioranza chiara limpida precostituita alla luce del sole non raccogliticcia né rimpolpata dei parlamentari eletti nello schieramento avverso ma poi ci sono ovviamente tante riflessioni che si rincorrono su quello che sarà ovviamente il delicato compito di Mattarella probabilmente neanche noi Valentina vorremmo essere al suo posto nemmeno noi anche perché comunque la situazione è particolarmente complessa ci sono tanti scenari a disposizione del capo dello Stato che potrebbe cercare delle larghe intese che in questo momento potrebbero essere complicate oppure scegliere un governo di minoranza un governo di scopo o un governo del presidente addirittura per cercare di individuare una soluzione che possa raccogliere una maggioranza chiara in Parlamento sicuramente un governo tecnico per poi ritornare al voto è una scelta che alla vigilia era stata anche auspicata da Berlusconi questo però non credo sia l'interesse di Movimento 5 Stelle di centro-sinistra questo è poco ma sicuro la maggioranza parlamentare in questo momento non c'è come era nelle previsioni perché il cosiddetto premio anche se non si chiama tecnicamente così che avrebbe garantito una maggioranza sarebbe andato a un partito al partito che superasse il 40% così non è stato e quindi evidentemente adesso si pone un problema di governabilità per il nostro paese un'instabilità che potrebbe anche nuocere al mercato ai mercati finanziari e non solo perché ovviamente gli investitori stanno valutando con attenzione quello che sta accadendo nel nostro paese sarà Mattarella a dover rassicurare anche i mercati in questa situazione uno scenario che si complica evidentemente per la situazione del governo e per la stabilità del nostro paese ma una situazione che si complica anche a livello locale Monica abbiamo visto come i risultati del centro-destra siano clamorosi in regione abbiamo visto come la Lega sia in questo momento il primo partito regionale magari poi ritorniamo sui numeri della Lega e degli altri partiti a proposito di Lega magari Valentina vediamo le parole scritte da Massimiliano Fedriga sul suo account Twitter ovviamente ringraziamento al Friuli questo messaggio scritto sei ore fa come vediamo grazie Friuli Venezia Giulia ora scriviamo insieme il futuro hashtag Lega Salvini Premier ovviamente la soddisfazione è grandissima la soddisfazione è molto grande per il risultato che hanno ottenuto in Italia ma in regione è ancora più clamoroso continuiamo magari dopo a dare un'occhiata alle reazioni su Twitter e sui social perché ce ne sono ovviamente tantissime da potervi mostrare ma sentiamo il primo commento di Isabella De Monte che ieri intercettata nella sede del PD ha fatto un'analisi sui primi esiti del voto sicuramente delusione certamente per il risultato ecco non credevamo che fosse così basso ecco stiamo parlando ancora ovviamente di proiezioni anche all'inizio ecco quindi dobbiamo attendere però è sicuramente un dato deludente pensavamo ecco sopra senz'altro sopra il 20 per cui ecco se dovesse essere confermato questo dato non siamo ovviamente soddisfatti per cui sono d'accordo ecco con la posizione già fermata da Ettore Rosato non c'è assolutamente spazio per un nostro coinvolgimento quindi saremo all'opposizione qual è stato forse l'errore del PD ma è difficile dire certo quando si governa si fanno degli errori sicuramente però siamo candidati che sono stati sul territorio hanno spiegato tutte le cose che abbiamo fatto non ci sembra che sia un'Italia che sia in condizioni disastrose anzi finalmente siamo tornati ad un segnale positivo devo dire a me preoccupa anche un po' la situazione che ci troveremo ad affrontare in Europa perché con una vittoria di partiti populisti e anti-europeisti non ci potremo attendere diciamo una situazione facile nemmeno sui tavoli europei ecco ho visto proprio la sua esperienza a Bruxelles considerando il movimento 5 stelle avanti a tutti il futuro è sempre meno a stelle diciamo nonostante il cambio così di opinione negli ultimi tempi credo che sia significativo il tweet che ha fatto la Le Pen nel congratularsi nel esprimere soddisfazione per quanto sta emergendo dai dati dello spoglio per cui ecco se questo dovesse rimanere se questa situazione dovesse rimanere è certo che è un avanzare dei partiti populisti per cui ecco non è una situazione centralmente facile da affrontare poi allora l'avanzare dei partiti populisti così li ha definiti Isabella De Monte sicuramente un voto di grande protesta quello che si è visto in tutta Italia e anche nella nostra regione risultati clamorosi per quel che riguarda il cambio rispetto al 2013 sia per Movimento 5 Stelle sia per la Lega in regione soprattutto perché gli anni scorsi nell'ultima tornata elettorale la Lega era al 6.72 oggi si trova addirittura al 27% per quel che riguarda l'Uminominale il Partito Democratico che era al 24 arretra drasticamente questi sono i risultati del 2013 in Friuli Venezia Giulia quindi essere scesi sotto il 20 essere arrivati al 18% sicuramente è un fallimento per il PD e poi avremo qua anche il segretario Salvatore Spitaleri a cui chiederemo sicuramente le ragioni che hanno portato a questa sconfitta si rinforza ulteriormente il Movimento 5 Stelle che già aveva ottenuto il 27% nel 2013 e che adesso davvero vola in alto tanto che nelle sfide all'Uni nominale è il secondo partito sicuramente un risultato che vede premiate Lega e 5 Stelle mentre Forza Italia arretra drasticamente 18,65% il popolo della libertà nel 2013 adesso se non sbaglio Forza Italia dovrebbe essere intorno al 13 ma è anche il risultato delle due scissioni che ci sono state all'interno del popolo della libertà che chiaramente ha dovuto vedere gli addi di parte del partito anche se la quarta gamba Monica magari poi recuperiamo i dati del Viminale a livello nazionale anzi scusate a livello regionale noi con l'Italia la quarta gamba che appunto raccoglie anche i fuoriusciti dal popolo della libertà del 2013 ha raccolto poco più dell'1% quindi per il momento non ha seggi al Parlamento ecco rivediamo un attimo i risultati ritorniamo a vedere quello che sono l'aggiornamento sul Luminio Minale alla Camera Sì allora per quanto riguarda ovviamente la nostra regione la situazione complessiva è questa per gli uninominali dunque la coalizione come detto di centrodestra in vantaggio col 42,79% siamo a 1307 sezioni scrutinate rispetto a 1369 la Lega al 26,29% Forza Italia al 10,9% circa Fratelli d'Italia al 5,4% e noi con l'Italia Udc a 1,22% appunto Movimento 5 Stelle invece al 24,4% per come vediamo questo aggiornamento mentre la coalizione di centrosinistra è al 23,22% col partito democratico al 18,5% più Europa che è al 3,37% Italia Europa insieme al 0,5% e Civica Popolare Lorenzina al 0,4% per i partiti della coalizione del centrosinistra piuttosto deludente sia per Lorenzin che per Insieme che non arrivano neanche all'1% per quanto riguarda Liberi Uguali invece sopra la soglia del 3% col 3,23% in base appunto alla percentuale che vediamo poco sopra all'1% 1,27% all'incirca è Casa Pound Italia e poi sotto l'1% il patto per l'autonomia e poi a seguire tutti gli altri andando a vedere assieme la situazione al Senato per quanto riguarda appunto il territorio regionale quella complessiva di tutte le circoscrizioni vediamo che con 1.338 sezioni scrutinate rispetto a 1.369 per quanto riguarda la coalizione di centrodestra i candidati uniluminali vedono una percentuale del 43,7% quindi la Lega sempre con una percentuale molto elevata rispetto a Forza Italia del 25,7% mentre Forza Italia all'11,9% Fratelli d'Italia poco più su del 5,4% anche qua e noi con l'Italia Udc all'1% Povimento 5 Stelle è superiore con i suoi candidati uniluminali con il 24% al 24,26% vediamo assieme la coalizione di centro-sinistra è al 23,9% circa col Partito Democratico che qui è al 20,05% quindi in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il Senato di sopra della soglia del 20% più Europa al 3,08% Italia e Europa insieme sotto il 0,5% e Civica Popolare Lorenzin sotto al 0,4% candidati invece di uniluminali per liberi uguali il dato è inferiore al 3% al 2,91% mentre Casa Pound è a circa l'1,21% a seguire tutti gli altri candidati degli altri partiti non ancora citati che sono sotto l'1% abbiamo visto la collezione del centrodestra in grande vantaggio in tutti i collegi allora sentiamo il commento di Luca Ciriani intervistato da David Zanirato ieri sera sentiamo abbiamo raggiunto Luca Ciriani nel quartier generale della collezione di centrodestra qui a Pordenone al Caffè Municipio si stanno continuando a seguire gli ultimi dati un primo commento innanzitutto su questi exit poll a livello nazionale l'ex exit poll il dato più significativo è il grosso arretramento della centrosinistra che un po' tutti si aspettavano non fosse con queste dimensioni come anche l'affermazione a livello nazionale perché è l'unico dato che abbiamo almeno per il momento il momento 5 stelle che pare inglobare un voto di protesta molto forte che in parte ci aspettavamo ma onestamente non in queste dimensioni il centrodestra per adesso resiste bene trattare di vedere come viene distribuito il voto nelle singole regioni la sensazione è che il 5 stelle faccia il pieno soprattutto nelle regioni del sud vedremo qui al nord quale sarà la risposta dei cittadini adesso purtroppo noi non abbiamo dati per cui è difficile commentare se non un dato di carattere generale sicuramente ricordiamo Ciriani in competizione per quanto riguarda il collegio di Udine Porrenone del senato con Isabella del monte del partito democratico la Santoro per i 5 stelle per gli altri sfidanti che presagia che sensazione ha avuto in questi ultimi giorni io ho fatto la campagna come faccio sempre girano tra la gente mi aspettavo una partecipazione al voto alta perché sentivo la voglia di partecipare dopo tanti anni in cui la gente aveva osservato all'opera governi tecnici o non eletti dal popolo e questo si percepiva più che altro nel colloquio personale perché la partecipazione ai dibattiti alla politica normale era piuttosto scarsa però molto sentita a livello di dibattito generale tra le persone nei bar nelle occasioni di lavoro e questo si c'è una voglia di partecipare secondo me la partecipazione qua a Pordenoni in alcune sezioni è superiore all'80% un dato è clamoroso questo è comunque un buon segnale perché la gente vuole partecipare vuole dire la sua e in democrazia la gente ha sempre ragione un ultimo flash naturalmente poi da domani si riparlerà anche di elezioni regionali il centro-destra che cosa dovrà fare in base a questi risultati mi pare che il centro-destra comunque adesso vedremo i dati regionali che non abbiamo possa partire con buone chance di vittoria perché il dato regionale è diverso dal voto politico secondo me si valuta più la persona il radicamento la qualità delle liste che vengono messe in campo il voto nazionale risente molto del dibattito nazionale televisivo e spesso sfugge anche alla come dire alla semplificazione o alla decisione rispetto alle persone che sono candidate e quindi secondo me il centro-destra è più forte a livello di competizione regionale che in quanto non sia adesso questa competizione nazionale per cui se gioca bene le sue carte se rimane unito può vincere grazie Luca Ciriani questo Luca Ciriani che è in larghissimo vantaggio mancano ormai pochissimi seggi Monica insieme appunto su 791 sezioni scrutinate rispetto alle 798 complessive vediamo che il dato vede Luca Ciriani appunto per la coalizione di centro-destra col 46,5% dei voti mentre la candidata del momento 5 stelle all'uniluminale dunque Maria Chiara Santoro è al 23,24% poi appunto la candidata del centro-sinistra Isabella De Monte al 22,27% vediamo ancora il risultato del candidato di Liberi Uguali Federico Cazzorzi al 2,63% mentre a seguire tutti gli altri intorno all'1% o inferiori all'1% andiamo a vedere Valentina anche la situazione al collegio sempre per il Senato collegio uninominale di Udine e di Trieste scusate e Gorizia andiamo a vedere Riccardo Illi la situazione appunto per la coalizione di centro-sinistra lo vede con il 26,52% dei voti a seguire il candidato del Movimento 5 Stelle Pietro Neglie con 25,88% e poi Laura Stabile per il centro-destra con 20,89% dei voti in questo caso le sezioni sono scrutinate 5,547% rispetto alle 571 complessive bene qui vediamo il risultato appunto 64.000 i voti per Riccardo Illi 62 per Pietro Negli e invece Laura Stabile 50.000 4,45% questo è il risultato di Trieste che evidentemente premia la coalizione di centro-destra mi pare di capire visto che è spuntata l'elezione proprio su Laura Stabile ma poi torneremo su questi voti torneremo anche sui candidati all'uninominale intanto sentiamo quello che è stato uno scontro che si è tenuto ieri sera proprio durante la nostra trasmissione perché una delle caratteristiche che ha contraddistinto questa elezione questa tornata elettorale è stata la divisione della sinistra soprattutto fra PD e Liberi e Uguali in studio c'era Serena Pellegrino in esterna c'era Salvatore Spitaleri al microfono di Luciana Idelfonso c'è stato un po' un dibattito sul commento ai risultati vediamo noi siamo proprio a casa del PD sono in compagnia di Salvatore Spitaleri e proprio lui ci stava ascoltando in diretta per cui può risponderti direttamente alla tua curiosità ormai orientata sul territorio del Friuli Venezia Giulia buonasera buonasera direttore buonasera a tutti i suoi ospiti dicevamo rispetto era una domanda che avevo fatto anche agli altri ospiti qui in studio soprattutto a Colauti che poi tra un po' ci lascerà ma approfittiamo anche di questo collegamento per chiedere i risultati attuali che abbiamo abbiamo ancora degli exit poll le prime proiezioni ma in base a questi dati qual è la prospettiva invece su base regionale per le prossime elezioni per il centro-destra se vince la Lega chiaramente imporrà il candidato alla presidenza per il centro-sinistra cosa succede cosa cambia se cambia qualcosa rispetto a quello che è già stato deciso il centro-sinistra ha un candidato nella figura di Sergio Bolzonello ormai da molti mesi è un candidato che sta lavorando per consolidare un'alleanza che a partire dal centro-sinistra guardi a forze civiche guardi a forze sociali guardi a territori guardi naturalmente anche all'esperienza di Leo con cui oggi il dibattito e il confronto deve assolutamente riprendere noi attendiamo il competitore del centro-destra naturalmente ma il tema che emerge in queste ore è un tema di una necessità da parte del candidato Sergio Bolzonello dello schieramento di centro-sinistra così aperto e largo di parlare molto di più di programmi di futuro di sviluppo di questa regione e in modo tale che i cittadini possano come dire confrontarsi anche rispetto a quello che li attenderà domani non basterà certo non basteranno certo i risultati o gli obiettivi fin qui raggiunti c'è necessità e questo è un dato che emerge evidentemente dalle prime valutazioni leggendo i primi risultati o le prime tendenze naturalmente aspettiamo i dati del fluo di Venezia Giulia perché stiamo parlando solo di tendenze nazionali in questo momento ma il dato importante sarà il futuro e i programmi per il futuro in questo senso Sergio Bolzonello come candidato esprime una capacità di aggregazione che vogliamo valorizzare in queste due settimane prima evidentemente dell'inizio dell'effettiva campagna elettorale per le elezioni regionali Francesco ti restituiamo la linea allo studio così dai la possibilità alla Lega di replicare ma noi restiamo in collegamento così vi seguiamo passo dopo passo e poi ritorniamo qui dalla sede del PD va bene perfetto allora ricordo che lui stesso qualche giorno fa quando abbiamo fatto l'incontro tra Liberi Uguali e Partito Democratico hanno detto no grazie le vostre proposte per una coalizione hanno detto che non ci servono noi andiamo avanti da soli stiamo bene da soli ed è sufficiente da soli noi ovviamente abbiamo preso atto perché noi siamo andati sui punti programmatici e non siamo andati su alleanze e numeri adesso dicendo dovremmo necessariamente riprendere il dialogo adesso mettetevi d'accordo noi abbiamo subito la replica se mi sentite in studio sono un po' stupito da queste parole dell'onorevole Pellegrino che non era peraltro presente all'incontro l'incontro invece per come il Partito Democratico l'ha inteso e l'ha proposto è quello proprio di un confronto programmatico in quell'occasione c'è stato detto che c'erano alcuni elementi ostativi che riguardavano il candidato la ricostruzione evidentemente da qualche parte risente evidentemente della campagna elettorale di questi giorni posso replicare? certamente anche noi abbiamo la nostra maratona anche perché per noi è fondamentale replichi pure sono assolutamente prioritari i programmi e senz'altro Bolzonello continua a ripetere che lui è la continuità del governo seracchiano su cui noi abbiamo posto dei punti e dei paletti ben precisi su cui non abbiamo nessuna intenzione di tornare indietro il candidato presidente sicuramente non per noi non è quello che vogliamo senz'altro i punti programmatici che voi continuate a portare avanti non sono aderenti ai nostri questo è quello che mi è stato riferito io non faccio tutte le parti in commedia per cui ero impegnata nella campagna elettorale sulle politiche e quindi sono venuti i rappresentanti del mio partito in quella sede e in quella circostanza non è stata tratta nessuna conseguenza positiva cosa differente invece che è accaduta su Udine abbiamo fatto un incontro con Vincenzo Martinez che abbiamo dato i nostri punti programmatici che lui invece ha raccolto contro replica Francesco il botta e risposta forse prosegue perché vedo come dire un po' di trepidazione qui ma per carità insomma avremo l'onorevole Pellegrino avremo sicuramente in questi giorni modo di confrontarci non è non è questo non è come dire il botta e risposta lasciano il tempo che trovano c'è tempo invece di c'è necessità di approfondire su alcuni temi però voglio ribadire che rispetto ad alcuni dati come dire rispetto alla ricostruzione di Sergio Bolzonello come dire ripiegato su una continuità non so dove l'onorevole Pellegrino colga questo elemento chi ha avuto possibilità di partecipare all'incontro di Monfalcone dove il candidato Bolzonello ha presentato alcuni spunti programmatici verso le elezioni regionali ha colto a parere di tutti i presenti alcuni elementi di novità e di sensibilità che forse Leo potrebbe apprezzare a nostro avviso sui quali potrebbe confrontarsi questo è il botta risposta tra Spitaleri e Pellegrino ieri durante la nostra trasmissione dai risultati di oggi un fatto evidente la sinistra quando è frammentata non vince anzi perde malamente noi ci fermiamo per un break e poi ritorniamo con tutti i commenti e le analisi del voto buongiorno buongiorno consigliere regionale di Forza Italia ha candidato nel proporzionale dopo Sandra Savino un risultato quello della coalizione della centrodestra che immagino vi lasci soddisfatto beh certo è indubbio che la coalizione centrodestra fa un risultato importante lo fa a livello nazionale lo fa a livello regionale è una coalizione che può riuscire a governare adesso vedremo i dati definitivi perché ci sono anche i collegi uninominali che vanno come dire verificati nella loro complessità nella loro totalità quindi noi ci auguriamo davvero di avvicinarci molto alla soglia di governabilità per poter riuscire a dare un contributo utile a questo paese certo a livello nazionale la governabilità è ancora un rebus il presidente Mattarella dovrà davvero fare riferimento a tutte le proprie capacità diplomatiche per trovare una soluzione che in questo momento è un po' difficile voi da questo punto di vista avete avuto già delle indicazioni ancora no evidentemente perché lo spoglio è ancora in corso quindi non abbiamo nessun tipo di indicazione che ci arrivi dall'ambito nazionale facciamo dei ragionamenti questi ragionamenti ovviamente sono legati un po' ai numeri ma i numeri in qualche modo anche se si sono sedimentati possono ancora modificarsi proprio perché ci sono ci sono ancora i collegi uninominali da verificare in toto e di conseguenza dobbiamo capire quanto ci avvicineremo alla governabilità alla soglia di governabilità ecco per quel che riguarda Forza Italia intanto stavamo dando un'occhiata proprio ai risultati della regione quello che emerge è un passaggio veramente forte un cambiamento molto forte anche nel meccanismo dei poteri all'interno della coalizione con la Lega che è il primo partito in Italia ma che in regione alla Camera per l'uninominale ottiene addirittura il 26% quindi questo a dire il vero cambia un po' il gioco delle parti fra di voi ma allora diciamo che stabilito che la coalizione centrodestra è in una condizione solida certamente quello che è accaduto lo si è visto un po' con il premio alla Lega e il premio anche al Movimento 5 Stelle indica che c'è stata una tendenza al voto verso i partiti che sono un po' antisistema questo naturalmente è un dato che va tenuto presente gli elettori si sono espressi e di conseguenza direi che non possiamo fare altro che prenderne atto è evidente che mentre per il Movimento 5 Stelle che viaggia su un binario suo le considerazioni dovranno essere fatte nell'ambito di quello che è il ragionamento complessivo su chi avrà incarico di governo o meno nell'ambito regionale noi abbiamo una coalizione la Forza Italia in qualche modo ha tenuto anche se a qualche punto lo ha perduto ma abbiamo il focus è sempre la coalizione e questo era anche il focus previsto dal Rosatellum che evidentemente premiava le coalizioni che in questo caso vi dà un buon risultato a livello di coalizione se dobbiamo guardare i partiti forse lo scenario per le regionali e le comunali di Udine potrebbe cambiare ma allora noi siamo abbastanza come dire convinti che lo scenario per le regionali pur con la Lega che è un partito che ha indubbiamente acquisito molti più consensi rispetto ai precedenti non cambia lo scenario Forza Italia rivendica la candidatura a presidente di questa regione anche perché erano accordi che erano stati fatti precedentemente in qualche modo si diceva che non erano necessariamente legati al risultato elettorale d'altra parte noi abbiamo come regione del nord l'unica regione che non è rimasta in mano alla Lega di conseguenza credo che sarà nei prossimi giorni il compito del segretario regionale Sandra Savino l'onorevole Sandra Savino continuare la trattativa ma portare a quello che noi auspichiamo cioè alla candidatura di Riccardo Riccardi come candidato presidente appunto Sandra Savino che è in vantaggio nel suo collegio il centrodestra in vantaggio in tutti i collegi della nostra regione però il sito del Biminale tra l'altro non ci sta aiutando molto perché ci sta un po' ingannando a proposito di numeri eravamo rimasti perplessi anche l'ultimo aggiornamento perché c'erano dei dati contrastanti li stavamo verificando comunque ve ne diamo atto e vi aggiorneremo nuovamente nel corso della prossima ora perché appunto per quanto riguarda il Senato sul collegio uniluminale di Trieste Gorizia vediamo che ci risultano le sezioni tutte scrutinate quindi 571 su 571 completato lo scrutinio però i dati che ci vengono posti nel sito appunto ci propongono un Riccardo Illi con 67 mila e oltre 200 voti quindi il 26,5% di voti Pietroneglie con Movimento 5 Stelle al 25,9% ma poi ci risulta Laura Stabile per la coalizione del centrodestra eletta con un dato discordante perché appunto sommando i voti raccolti da Lega Forza Italia Fratelli d'Italia e noi con l'Italia la somma ci dà più di 100 mila voti quindi adesso chiariremo anche questo aspetto ma insomma in linea con i dati che vedono il centrodestra in vantaggio anche sul territorio insomma questa eletta potrebbe essere confermato potrebbe essere confermato con un altro dato perché vediamo che la Lega ha già solo i voti della Lega 56 mila sono stanchi anche al Viminale vediamo che appunto il Viminale ha anche dei problemi perché ci ripropone due volte gli stessi dati quindi ci deve essere un problema con la banca dati ci deve essere un problema con la banca dati e col sistema di aggiornamento dei voti online sicuramente un risultato interessante anche per lei che è il secondo nome nel proporzionale perché dopo Sandra Savino c'era appunto Roberto Novelli Danila Pallotta e Andrea Pozzo questo per le elezioni proporzionali della Camera quindi un risultato che sta seguendo con grande attenzione quello non dell'uninominale in questo caso ma quello del proporzionale certo allora diciamo che non avevamo molti dubbi sul fatto che Sandra Savino con la coalizione sostenuta dalla coalizione nel collegio di Codroipo all'uninominale vincesse il collegio poi c'è stata c'è stata questa questa definitiva questo definitivo risultato di tutti i collegi sostanzialmente in mano in mano a centrodestra quindi quello che consideravamo ieri sul fatto anche del proporzionale dove io sono dietro appunto Sandra Savino è rimasto sostanzialmente immutato adesso aspettiamo però che ci siano i conteggi definitivi perché sono dei conteggi abbastanza complessi quindi non vorrei come dire rallegrarmi anticipatamente anche se sono moderatamente ottimista anche perché appunto lo scrutinio è stato più complesso del previsto intanto perché le procedure di voto sono state rallentate ieri abbiamo visto una grande affluenza c'era questo tagliando antifrode che ha complicato il lavoro degli operatori del seggio degli scrutinatori questo perché appunto ci raccontava anche un presidente di seggio loro erano abituati nelle ultime ore prima della chiusura del voto a già iniziare dei lavori delle procedure preventive proprio in vista dello scrutinio quindi per cominciare al momento della chiusura del voto già immediatamente le procedure per verificare le schede invece questo non è stato possibile proprio perché appunto durante queste ore loro sono stati impegnati proprio a raccogliere i voti delle tante persone che si sono messe in coda e quindi evidentemente hanno iniziato a scrutinare molto molto tardi tanto che per adesso non ci sono ancora i risultati definitivi per adesso ci sono 1358 sezioni su 1369 in regione sono quasi finite però per avere i dati relativi al proporzionale ovviamente ci vorrà un po' di tempo Valentina perché appunto rispetto alla camera al collegio uniluminale di Codroico dell'Alto Friuli risultano scrutinate tutte le sezioni 297 su 297 i dati noi ci fidiamo ovviamente il sito più autorevole è il Viminale stando alla nostra scrupolo e i dati qua paiono in regola dunque Sandra Savino risulta aver ottenuto il 47,89% di voti dunque per la coalizione di centrodestra a seguire Aulo Cimenti primo momento 5 stelle col 22,72% e per la coalizione di centrosinistra Silvana Cremaschi con il 20,32% dei voti a seguire al di sotto della soglia del 3% Carlo Pegorera di Liberi Uguali e poi tutti gli altri candidati se volete andiamo subito a dare uno sguardo d'insieme anche alle altre circoscrizioni andiamo in quella di Pordenone sempre per la Camera qua risultano ancora da scrutinare due sezioni al momento Bagna Gava per il centrodestra risulta avere un abbondante 46% di voti seguita da Giovanna Scottà del Movimento 5 Stelle con circa il 23% dei voti e poi per il centrosinistra Giorgio Zanin 21,79% mentre per Liberi Uguali Veglia Castan al 2,44% andiamo anche nel collegio di Trieste e vediamo che qui risultano 257 sezioni sfruttinate rispetto a 260 i dati vedono Renzo Tondo per il centrodestra con il 38,27% dei voti quindi in vantaggio sul candidato del Movimento 5 Stelle Vincenzo Zoccano al 25,9% dei voti e comunque è un risultato superiore al momento a quella della candidata del centrosinistra come sappiamo Deborah Serracchiani che è al 25,82% dei voti mentre Fabio Omero per Liberi Uguali è al 4 poco più del 4% questo è un dato che va interpretato e va analizzato perché questa è una bocciatura sonora per la Presidente questa è una bocciatura davvero sonora anche perché la Presidente nell'ultimo periodo in particolare si era molto dedicata anche in termini di relazioni di relazioni con la città di Trieste ha puntato molto sulla città di Trieste e davvero si pensava che riuscisse perlomeno ad essere entrata in sintonia in realtà questo si è dimostrato non sia accaduto vediamo anche un grosso risultato una bella rivincita una bella rivincita bisogna dire questo sì bisogna dirlo perché effettivamente credo sia stata la sfida più avvincente anche per noi che la raccontiamo però non la viviamo e quindi non abbiamo i patemi d'animo ovviamente però effettivamente Renzo Tondo il Carnico che va a vincere a Trieste dove Deborah Serracchiani ha intessuto tante relazioni ha governato per cinque anni era presente in città non solo in regione insomma dove appunto ha sicuramente una gran parte della sua vita effettivamente fa pensare questo dato fa pensare ed è in linea con forse una bocciatura generale generale del PD e della giunta in generale del governo della regione un voto di protesta sì è un voto di protesta indubbiamente ma è un po' figlio di questo di questo vento nuovo che si è come dire materializzato in modo anche se vogliamo per alcuni abnorme perché ripeto i risultati del movimento il risultato del Movimento 5 Stelle in ambito nazionale più contenuto a livello regionale e il risultato della Lega a livello nazionale ma anche a livello regionale sono dei come dire è un fenomeno che va andrà analizzato con grande attenzione guardi prima pensavo pensavo ad una cosa è proprio davvero un voto antisistema perché se dobbiamo ragionare sui contenuti anche dei programmi dei programmi elettorali e anche su come le conseguenze che potrebbero avere più volte è stato detto che il programma del centro-destra come il programma del centro-sinistra come il programma del Movimento 5 Stelle erano programmi irrealizzabili programmi che avrebbero dovuto come dire allertare le persone sul fatto che poi non si sarebbero potuti realizzare ecco Forza Italia ha proposto una flat tax al 23% la Lega l'ha proposta al 15% allora a questo punto la riflessione è le persone non hanno neanche badato a queste cose hanno fatto davvero un voto di protesta un voto che si ancorava ad altro perché se avessero dovuto fare un voto un po' di analisi o al programma elettorale avrebbero dovuto essere un pochino più mediati queste percentuali effettivamente questa è un'analisi interessante che fa che mostra come effettivamente le promesse elettorali per quanto possono essere state definite fantasiose o da fiaba qualcuno se non sbaglio ha usato questo termine effettivamente hanno avuto comunque presa su un elettorato molto deluso quindi evidentemente c'è una forte delusione una forte voglia di cambiamento in Italia e in regione soprattutto come l'avete interpretata questa voglia di cambiamento ma allora Forza Italia è sempre stato un partito responsabile un partito moderato che ha preso sempre delle posizioni le ha mantenute anche nell'opposizione al governo Serracchiani ha sempre parlato di migrazione e delle soluzioni al problema dell'immigrazione in modo come dire coerente non ha mai alzato i toni oltre un certo limite perché esiste anche una responsabilità di governo che deve far sì che quando si parla alle persone si debba parlare sempre con il limite di chi dice delle cose che poi possono essere applicate quando poi si hanno gli strumenti per poter trovare delle soluzioni indubbiamente questo non è servito più di tanto perché la reazione delle persone ma d'altra parte noi consiglieri regionali che siamo persone di territorio ce ne accorgiamo anche semplicemente camminando per strada o frequentando i locali capita molto spesso di trovarsi di fronte a delle persone con le quali non c'è dialogo nel momento in cui tu non proponi quello che si vogliono sentire proporre in particolare sulla sicurezza e sull'immigrazione hanno tutti già la soluzione in tasca e di conseguenza ci sono orientati verso chi diciamo più facilmente tendeva a dare questo tipo di messaggio politico che ripeto noi abbiamo dato ma senza urlare troppo diciamo che c'è stata una bocciatura della fra virgolette cultura di governo sì cioè del governo come l'abbiamo visto in Italia in questi ultimi cinque anni o comunque negli ultimi due dal 2016 diciamo con il governo Gentiloni tutti quelli che hanno partecipato al governo diciamo così delle larghe intese in modo da garantire la stabilità del nostro paese sono stati sonoramente bocciati parlo anche per esempio della Quarta Gamba parlo della Lorenzina che anche ha preso un voto un risultato molto negativo il raggruppamento centrista la Quarta Gamba oggettivamente si si aspettava avesse qualche qualche punto percentuale in più in realtà questo non è accaduto ed è l'ulteriore riprova dal punto di vista di un'analisi così a caldo fatta dopo non aver dormito questa notte è abbastanza evidente che ci riconduce a quanto detto prima c'è un vento che soffia un vento forte e che deve travolgere qualcosa un vento americano un vento un vento che potrebbe essere anche un vento americano perché c'è un po' di similitudine c'è un po' di similitudine a quello che è successo in America fatte salve le proporzioni fatte salve ovviamente le condizioni geopolitiche differenti però insomma nei prossimi giorni cercheremo un po' anche di decriptarlo soprattutto alla luce del ragionamento che verrà fatto dai leader regionali su quello che sarà il candidato presidente del centrodestra e questa è una sfida interessante che a questo punto si inizia a delineare per la regione e per il comune di Udine in particolare intanto una prima considerazione che possiamo fare Bolzonello ce l'avrà durissima beh Bolzonello ce l'avrà durissima pur essendo una persona che si è mossa in anticipo pur essendo una persona che si è smarcata un po' dal governo di questi cinque anni del centro-sinistra non è semplice però diciamo che come persona ha un profilo che gli consente di avere una posizione più defilata rispetto a quello che poi lo ha visto attore principale e certamente ce l'avrà durissima perché se i dati delle politiche avranno un riflesso e non possono non averlo nelle elezioni che si terranno da qui a due mesi evidentemente sembra quasi che non ci sia diciamo che tradizionalmente le politiche catalizzano di più un voto di protesta mentre invece le regionali di solito sono un punto di riferimento per il territorio qui c'è un abisso di differenza allora di fronte a un abisso uno può pensare di cadere e magari fermarsi su uno strapuntino ma non cadere è difficile in queste condizioni in queste condizioni effettivamente si fa molto dura e si fa molto dura anche la definizione di un nome per le regionali e per il comune di Udina a questo punto Fontanini sembra essere che poi tra l'altro avremo ospite qua quindi fra un po' per raggiungere glielo chiederemo di persona che non ha ancora avuto un'investitura ufficialissima se non da una parte di una di una parte della coalizione diciamo che le macchine a questo punto che erano parcheggiate con gli occupanti pronti a partire si sono messi in moto si sono messi in moto per cui nell'arco di qualche giorno non sarà possibile andare poi molto oltre perché ricordiamoci sono anche le firme da accogliere per i partiti che non erano già presenti in consiglio regionale quindi è un sistema complesso anche da un punto di vista come dire burocratico amministrativo di sistema perciò nell'arco di qualche giorno una definizione dovrebbe essere fatta ripeto però Forza Italia rivendica quindi Riccardo Riccardi è comunque il candidato per Forza Italia in questo momento assolutamente anche perché vorrei ricordare che quando la Lega aveva percentuali molto inferiori Forza Italia ha sempre avuto un atteggiamento responsabile verso la Lega cioè non è che abbia sempre ragionato con il bilancino ecco certo anzi c'è stata una solidarietà reciproca nel corso degli anni nelle coalizioni così si deve fare eh però forse questo nome allora a questo punto avrebbe dovuto arrivare prima è così è così così non ci sarebbero stati dubbi in questo senso Monica torniamo sul web con le reazioni che ci sono ancora stavo cercando anche reazioni ultime esatto vediamo che cosa del PD il vincitore di questa vincitore Matteo Salvini che quattro ore fa ha scritto un sentito un breve ma sentito grazie e lo vediamo appunto sorridenti in questa magine ma appunto stavo cercando anche sul fronte del PD Renzi ovviamente la governatrice per ora tutto ancora tace a meno sui social bisogna metabolizzare il risultato andiamo a continuare a vedere se ci sono aggiornamenti rispetto ai risultati risultati definitivi in parte li abbiamo già dati ci sono dei risultati definitivi per quel che riguarda l'uninominale sul proporzionale avremo ancora da aspettare purtroppo però già abbiamo dei risultati ad esempio a Trieste e qua mancano ancora tre sezioni per Lorenzo Tondo risulta 38,27% lo ricordiamo per il centrodestra per Movimento 5 Stelle Vincenzo Zoccano è un poco sotto al di sotto del 26% e poi a seguire appunto il risultato del 25,82 ottenuto da Deborah Serracchiani per il centrosinistra e poi in circa del 4% Fabio Mero per Liberi Uguali stavo vedendo se c'erano aggiornamenti anche rispetto a Gorizia dove le mancava una sezione se non erro esatto risulta ancora 235 sezioni su 236 però insomma il risultato anche qua vede il centrodestra in netto vantaggio con Guido Germano Pettarini che ha ottenuto il 37,14% dei voti rispetto a Sabrina De Carlo del Movimento 5 Stelle che ne ha ottenuti poco più del 28% e Giorgio Brandolinde per il centrosinistra poco sotto il 25% diamo anche uno sguardo a Liberi Uguali con Paolo Vizentina al 4,25% appunto manca ancora una sezione ultimo sguardo ci aggiorniamo assieme rispetto al collegio di Udine qui mancano tre sezioni anche qua comunque il centrodestra in netto vantaggio con Daniele Moschioni col 43,35% dei voti mentre Domenico Balzani del Movimento 5 Stelle ne ha ottenuti quasi il 24% 23,97% è comunque un risultato migliore a quello finora ottenuto dal candidato del centrosinistra Francesco Martinez che è al 23,6% e rispetto a Liberi Uguali vediamo Chiara Casasola all'incirca sul 3% poco più bene questi i risultati dei vari collegi che evidentemente premiano il centrodestra risultati sicuramente molto positivi per la coalizione è formata da Lega Forza Italia Fratelli d'Italia e noi con l'Italia ragionando novelli sul nazionale bene molto bene la Lega arretra Forza Italia forse Berlusconi ha esaurito un po' la sua spinta una campagna elettorale condotta molto sulle televisioni e poco nelle piazze questa è stata una campagna elettorale anomala che è un po' figlia di questi tempi dove tutto si sposta sui social sulle televisioni è chiaro che bisogna fare delle considerazioni che sono proprio delle considerazioni secondo me basali bisogna davvero tornare ad avere un rapporto personale tant'è che quello che è successo adesso non è detto che poi accadrà nell'ambito delle elezioni regionali dove i candidati hanno le suole delle scarpe a terra e sono a contatto con le persone quindi il valore della singola persona poi potrà far modificare anche queste percentuali che sono riconducibili ai singoli partiti questo daltono era un voto nazionale che poi ha avuto dei riflessi evidentemente anche in ambito regionale ma le regionali sono un'altra partita sono un'altra partita sono un'altra partita e stiamo a vedere che cosa succederà intanto Petarin farà una conferenza stampa non prima delle 12 per commentare gli esiti del voto visto che stavamo proprio guardando il collegio di Gorizia quella di Petarin è una bella vittoria davvero sono tutte belle vittorie ma quello era un collegio particolarmente difficile era considerato in bilico di fronte aveva un candidato come Giorgio Brandolin che insomma era un candidato molto conosciuto molto forte però abbiamo visto che addirittura si è posizionato in terza posizione e questo rispecchia tutto il voto regionale qui mi viene da pensare forse che chi ha barrato il nome del candidato invece che la lista probabilmente sono stati anche di meno perché sicuramente il voto era un po' complicato in questa edizione perché il dato regionale se Monica riesce a tirarlo fuori quello complessivo riguardante tutta la regione vede la Lega primo partito poi il Movimento 5 Stelle poi il PD quindi addirittura e questo è quello che poi viene rispecchiato nei vari collegi quindi davvero una debacle per il PD debacle che non era dal mio punto di vista preventivabile in questi termini ecco l'avevate prevista così noi noi eravamo abbastanza convinti che il PD avesse un crollo ma non così così importante eravamo convinti che si attestasse su qualche punto percentuale più in alto non si avvicinasse così pericolosamente in alcuni casi addirittura al 16 17% e quindi è qualcosa di estremamente anomalo però è figlio di come è stato governato il paese di come è stata governata la regione questo sistema lideristico che naturalmente troviamo in tutti i partiti nel PD ha funzionato meno che in altri quindi anche qua magari una bocciatura ad persona abbiamo visto una bocciatura per Serracchiani probabilmente come giudizio negativo nei confronti del governo della regione è una bocciatura anche per la leadership di Matteo Venti certo guardi qui ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente anomala credo che non si sia quasi mai verificata la presidente di una regione che reputa di aver governato bene che decide in corsa di continuare a fare la presidente della regione ma contemporaneamente il candidato di una di una forza politica il PD per le elezioni nazionali che nell'ultimo periodo con una serie di provvedimenti che hanno dell'incredibile dispensa a destra e a manca soldi e promesse che sono in tempi trascorsi avrebbero sortito un certo effetto penso al bonus bebè ripristinato ad esempio quella è una decisione della giunta di novembre però voglio dire decisione di allora ma l'applicazione esce adesso il rinforzo teorico sull'ospedale di Latisana che è stato abbandonato al suo destino e adesso improvvisamente torna a diventare centrale tutte cose che come dire avrebbero dovuto non fosse previsto da tempo comunque no l'ospedale di Latisana per quanto riguarda la pediatria era stato come dire era stato messo nelle condizioni di non avere più servizio mentre qualche giorno or sono c'è stata la conferenza stampa dove era presente il vice presidente della regione e lì è stato appunto riattivato il servizio di servizio di pediatria sulla carta perché poi alla fine però tutti i messaggi che avrebbero dovuto portare del bene al partito democratico in realtà non li hanno portato non hanno funzionato forse in generale il governo della giunta di questi cinque anni probabilmente non ha sortito gli effetti voluti dal PD e sicuramente dalla giunta anche perché evidentemente il clima che si è inasprito di rancore sociale di rabbia che si è espressa anche attraverso i social ecco poi bisognerà fare le debite valutazioni su quanto conta questo tipo di informazione e le notizie che poi arrivano dal web da questo punto di vista evidentemente raccogliendo i dati di oggi il voto di protesta il voto antisistema come dice giustamente Novelli evidentemente questo fastidio questa voglia di cambiamento è stata forte non solo così sui social e sugli organi di informazione ma anche nella cabina elettorale certo ma era come dire la percezione era chiara la percezione era chiara che ci sarebbe stato un voto antisistema non in queste proporzioni e arrivo anche a dire che in una regione come la nostra che come dire vede diversi problemi irrisolti in particolare quello che riguarda il lavoro giovanile o il sistema sanitario che non funziona più come un tempo questo voto però è stato come dire al di sopra delle aspettative in negativo da parte nostra rispetto al Movimento 5 Stelle qui non ha sfondato certamente ha però sfondato sfondato la Lega che comunque ha fatto sempre una politica come alleata responsabile però molto molto di pancia molto sicuramente diversa dal vostro approccio un approccio però quello della Lega che è stato premiato dalle urne torniamo Monica sul dato regionale per riguardare il dato generale riguardo la nostra regione con i numeri alla Camera allora il dato regionale con 54.795 sezioni scrutinate rispetto a circa 61.400 vede il centro-destra come detto in vantaggio con il 37.09% dei voti questi sono dati nazionali chiariamo ah scusatemi chiariamo i dati nazionali vediamo non preoccupare mi sono confusa io quindi andiamo brava Valentina quindi su 1.362 sezioni rispetto a 1.369 quindi siamo quasi al termine mancano 7 per il centro-destra giustamente la percentuale in regione è ben superiore del 43% con la Lega al 26.37% Forza Italia quasi l'11% Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni al 5,4% e noi con l'Italia Udc a 1,2% Movimento 5 Stelle con la candidatura al 24,5% circa mentre il centro-sinistra vede il 23 poco più del 23% dei voti col Partito Democratico all'incirca al 18,5% Liberi Uguali in regione ha superato di poco il 3% e poi a seguire tutti gli altri partiti andiamo invece al Senato sempre per il territorio del Friuli Venezia Giulia e vediamo che manca una sola sezione 1.368 su 1.369 i dati vedono il centro-destra anche qui al 43 a ben oltre il 43 al 43,75% con la Lega al 25,7% Forza Italia quasi al 12% Fratelli d'Italia al 5,5% circa e noi con l'Italia Odc a quasi l'1% mentre il Movimento 5 Stelle ha ottenuto poco più del 24% e il centro-sinistra il 23,91% col Partito Democratico al 20% circa e poi più Europa che ha ottenuto in Friuli Venezia Giulia poco più del 3% mentre al di sotto anche della soglia dell'1% al di sotto del 0,5% in regione Italia-Europa Insieme Civica Popolare Lorenzin per i liberi uguali il dato è al di sotto del 3% 2,92% come disse poi a seguire gli altri partiti ecco rispetto grazie Monica il rispetto al 2013 il popolo della libertà aveva collezionato il 18,65% adesso siamo intorno al 10% risultato che diciamo negativo rispetto alla negativo direi però c'è anche da considerare le varie scissioni che ci sono state anche se noi con l'Italia in questo momento che raccoglie una parte non solo non sono gli unici ma raccoglie una parte dei fuori usciti dal PDL dell'epoca ha raccolto solo poco più dell'1% sì beh indubbiamente dal 2013 ad oggi nell'ambito del centro-destra e particolarmente in quello che era il popolo della libertà ci sono state delle situazioni che hanno in qualche modo frammentato e ridotto la percentuale di voti l'abbiamo visto poi anche durante le elezioni amministrative anche in questo caso però come dicevo prima per quello che riguarda l'ipotesi delle regionali in alcune condizioni Forza Italia ha avuto delle impennate incredibili pensiamo a Codroipo ad esempio quindi il popolo della libertà se ci sono queste scissioni la percentuale ovviamente di voti si riduce arriva Forza Italia Forza Italia è un partito come dire più di governo quindi non parla la pancia delle persone ha molti amministratori sul territorio che quando si mettono in gioco direttamente normalmente ottengono dei risultati ottengono dei risultati nell'ambito di una visione così più macro più politica certamente questo messaggio più rassicurante di Forza Italia più europeista rispetto invece a un voto che nonostante nell'ultimo periodo le forze antisistema abbiano cercato di ricondurre a una maggior responsabilità questa variazione non è servita molto perché il messaggio vero era siamo anti-europeisti almeno in parte questa Europa non ci va bene addirittura il messaggio a volte è stato dobbiamo uscire dall'Europa in modo anche un messaggio sconsiderato perché basterebbe soltanto pensare a chi ha qualche mutuo per la casa che cosa gli accadrebbe nel momento in cui dovessimo uscire sicuramente i delusi non hanno votato i partiti poi c'è stata sembrerebbe una fuoriuscita di voti dal partito democratico anche alla Lega perché a questo punto potrebbe essere questo scenario quasi certo e in ogni caso c'è una spaccatura e poi non ve ne la lasciamo andare questa rassegna stampa l'abbiamo quasi conclusa nord e sud Italia ancora una volta divisi ancora una volta divisi questo non è non è un bene era abbastanza evidente che il voto di protesta si sarebbe materializzato di più nelle aree più depresse del nostro paese facendo un confronto tra la nostra regione e una regione del sud Italia evidentemente c'è un abisso verrebbe quasi da dire che chi vive in questa regione non dovrebbe nemmeno pensare che ci siano delle condizioni simili rispetto a chi vive in una regione del meridione però il dato quello che emerge in modo brutale è questo il meridione ha voglia di riemergere e ritiene attraverso i suoi elettori che non lo si possa fare con una politica tradizionale e quindi cerca qualcosa che sia di differente e l'unico partito che in questo momento gli dà questa garanzia lo si è visto col voto è il Movimento 5 Stelle bisogna prendere atto quando potrà festeggiare visto che è il secondo nome del proporzionale noi non abbiamo ancora i dati definitivi però i risultati sono molto positivi per quel che vi riguarda posso dire una cosa io avevo una programmazione completamente differente io ero convinto di correre per le elezioni regionali e di conseguenza questa candidatura alla Camera è stata per me una sorpresa positiva perché sono stati riconosciuti insomma determinate caratteristiche per cui vivo questo passaggio anche con un po' di confusione nel senso che io sono ancora mentalmente programmato per le regionali era una candidatura di servizio mettiamola così no diciamo non è una candidatura di servizio perché è una candidatura in una posizione tale che consente l'elezione però non era una candidatura che io ho cercato di conseguenza che sia fra un'ora che sia fra due che sia fra tre diciamo il mio livello emotivo è ancora sufficientemente basso sta salendo sta salendo sta salendo allora magari se succederà qualcosa entro le undici e mezza può tornare qua a farci un commento in merito grazie a Roberto noi ci fermiamo per un momento poi ritorniamo con l'aggiornamento e gli approfondimenti dopo il voto a fra poco rieccoci di nuovo in diretta con Udi News TV per il nostro speciale dedicato alle elezioni in diretta fino alle 11.30 per commenti gli approfondimenti a caldo abbiamo sentito i primi commenti da parte di Roberto Novelli esponente di Forza Italia candidato nel proporzionale come secondo nome dopo Sandra Savino è venuto a raccontarci la soddisfazione per quello che è il risultato della coalizione del centrodestra che in questo momento è in vantaggio in tutte le sfide all'uninominale ed è anche in largo vantaggio per quel che riguarda il proporzionale in regione Monica Nardini insieme a me per dare tutti gli aggiornamenti che arrivano dal web e dai social abbiamo qualche risultato da poter presentare da poter fare un riepilogo di quello che è successo in regione Stavo controllando se erano le sezioni mancanti che aspettavamo per i dati definitivi se erano complicati con terminati gli scrutini scusate al momento per quanto riguarda il Senato ero nel collegio in Luminale di Udine manca ancora una sezione però come detto Luca Ciriani per il centrodestra in vantaggio col 46 quasi virgola 6% seguito da Maria Chiara Santoro del Movimento 5 Stelle al 23-21% e è seguito a sua volta da Isabella De Monte per il centro-sinistra col 22,2% rispetto al collegio di Trieste andiamo a vedere la situazione la riepiloghiamo con le sezioni tutte scrutinate appunto abbiamo parlato della elezione ormai certa di Laura Stabile ecco adesso è il dato corretto perché ci avevano fatto degli scherzi i dati del Luminale all'inizio nella fretta l'abbiamo dato con estrema fiducia poi qualche conto non ci tornava e quindi Laura Stabile conferma è stata eletta quindi per il centrodestra con oltre 100.000 voti la percentuale del 39,4% vediamo rispetto alla Lega la percentuale di voti del 22,06 con Forza Italia invece quasi la metà l'11,42% e Fratelli d'Italia al di sopra del 5% quasi il 5,2% mentre noi con l'Italia Udc al di sotto del 0,7% Riccardo Illi per la coalizione appunto del centro-sinistra ha ottenuto quasi il 26,5% dei voti il Partito Democratico vede 21,9% come appunto percentuale di voti più Europa oltre il 3,5% mentre al di sotto dell'1% Italia-Europa Insieme e Civica Popolare Lorenzin vediamo anche il dato rispetto al Movimento 5 Stelle con Pietroneglie che si è fermato a 25,9% di voti e ancora Serena Pellegrino di Liberi Uguali al 3,36% andiamo a dare uno sguardo di insieme intanto per i risultati per i collegi uniluminali per la Camera quindi al momento ci mancano 7 sezioni ancora da essere scrutinate ce ne sono state 1.362 rispetto a 1.369 totali il centro-destra come detto in nettissimo vantaggio con il 43% dei voti con la Lega al 26,4% quasi mentre Forza Italia è al di sotto dell'11% 10,87 Fratelli d'Italia 5,4% noi con l'Italia Udc quasi 1,2% Movimento 5 Stelle i candidati uniluminali hanno ottenuto il 24,5% poco più per cento di voti mentre il centro-sinistra si è fermato al 23,05% di voti col partito democratico col 18,4% più Europa che nel territorio regionale ha superato il 3% mentre Italia Europa insieme civica popolare anche qui al di sotto del 0,5% ancora uno sguardo da Liberi Uguali che ha ottenuto il 3,2% quasi di voti con i suoi candidati uninominali Grazie Monica per questa panoramica sulla nostra regione dati che abbiamo presentato a più riprese che ricalcano e anzi superano i dati nazionali con la Lega primo partito e allora do il mio benvenuto al Presidente della provincia di Udine Pietro Fontanini benvenuto Buongiorno che ovviamente sorride perché questo è un dato che si aspettava intanto? No così clamoroso no perché il primo partito tra l'altro di una buona percentuale in questa regione non ce l'aspettavamo e poi il centro-destra unito veramente fa numeri molto molto importanti Ecco la coalizione è stata premiata però rispetto al dato nazionale bisogna davvero significare come il balzo della Lega in Friuli Venezia Giulia sia stato un balzo notevole anche perché ha superato il Movimento 5 Stelle che non è nella nostra regione il primo partito si conferma quindi che qua la PIL del Movimento 5 Stelle rispetto al resto d'Italia è lievemente inferiore tiene forse proprio questo rapporto con il territorio che la Lega si il territorio noi ci ha sempre premiato quindi siamo un movimento un partito che risponde al territorio quindi anche la nostra presenza in questa campagna elettorale molto sui mercati a contatto con la gente ci ha premiato ci ha dato un ottimo risultato io penso anche la politica che abbiamo indicato cioè il nostro programma le cose che dobbiamo fare abolire la Fornero questa legge che ha penalizzato moltissimi pensionati poi il discorso della sicurezza che è una questione fondamentale e si sente in maniera molto forte anche in questa regione ma poi un dato mi permetto di aggiungere anche il PD il PD era il partito leader in questa regione ha espresso la Presidente Seracchiani che non so se riuscirà ad entrare in Parlamento ancora ha perso lo scontro contondo a livello di uninominale e quindi lo sconfitto è il Partito Democratico quindi in questa regione ha sbagliato la politica regionale in particolare penso che alle politiche si sia riportato un po' questo malcontento che i cittadini di Firenze Giulia sentono nei confronti di chi li ha governati per questi ultimi cinque anni ecco in Italia i primi commenti al risultato eccezionale di Di Maio e di Salvini si parla di voto antisistema di un voto che ha raccolto la protesta che ha raccolto i delusi questo vale anche per la regione secondo lei oppure no? No non penso anche perché la Lega è da anni che governa regioni importanti la Lombardia il Veneto la Liguria quindi noi non siamo contro il sistema anche io nel mio piccolo insomma governo questa provincia e non abbiamo sconquassato le cose forse qualcun altro ha buttato per aria alcune istituzioni ha fatto un po' di pasticci soprattutto nel frio Venezia Giulia quindi abbiamo dimostrato e penso che dimostreremo ancora senz'altro di essere un partito che ha un programma che ha delle cose da attuare quindi daremo ai cittadini senz'altro delle risposte concrete come abbiamo fatto quando siamo stati al governo qual è stato l'aspetto che secondo lei ha contato di più in questa campagna elettorale che poi ha portato a questo risultato dopo le cabine il fatto probabilmente della sicurezza l'emergenza e l'immigrazione ha contato moltissimo nella campagna sicuramente non aver ascoltato i cittadini non aver capito che i cittadini erano stanchi di vedersi superare in pratica la gente che arriva qua cerca avventura ad esempio a Udine c'è molta rabbia nei confronti di questi giovani pakistani e afghani che chiedono sostentamento e ottengono sostentamento e la comunità deve spendere tanti soldi per loro e la gente dice ma come abbiamo i nostri poveri abbiamo i nostri invaldi abbiamo le persone che soffrono casa nostra e questi vengono sempre dopo rispetto a queste persone che vengono da molto lontano e quindi queste cose penso che abbiano inciso parecchio la gente ha voluto manifestare col voto una protesta nei confronti di chi non ha capito questa emergenza questa situazione noi abbiamo detto nella campagna elettorale dobbiamo pensare prima alla nostra gente dobbiamo dare risposte ai nostri cittadini e poi se c'è la possibilità pensiamo anche agli altri ma non possiamo invertire le cose quindi gli altri diventano prima dei nostri è una cosa sbagliata che i cittadini hanno manifestato hanno percepito in questa maniera e nella cabina elettorale hanno dato la propria preferenza a chi dava un segnale diciamo rassicurante rassicurante ma senza altro di cambiamento di voler mettere a posto un po' la situazione non è possibile che questo paese sia orientato più verso gli altri che non verso i propri cittadini e poi alcune misure pesanti io penso anche in questa regione la politica portata avanti dalla giunta regionale Seracchiani che ha penalizzato la sanità in primis poi gli enti locali chiudendo unici in tutta Italia le province creando un pasticcio istituzionale che avrà delle repercussioni ancora nei prossimi mesi quindi sono tutte cose che hanno aiutato noi della Lega ma tutto il centro-destra a raggiungere questo risultato con un voto molto forte da parte dei cittadini altri dati che emergono dai risultati del voto sia a livello nazionale che a livello locale l'arretramento di Forza Italia e dell'EPD la crescita di Lega e Movimento 5 Stelle in sostanza gli alleati di questo ultimo governo quindi noi con l'Italia la Lorenzin tutte quelle liste che erano collegate a una cultura di governo il governo che c'è stato con Gentiloni sono state solamente bocciate e poi invece un risultato direi modesto però riscaldamento in vista delle regionali per quel che riguarda invece i movimenti autonomisti sul movimento autonomista mi sembra che il risultato sia abbastanza piccolo un risultato modesto molto molto modesto perché se l'autonomia vive l'autonomia in questa regione con questa percentuale è da preoccuparsi perché una delle componenti forti un po' della storia della nostra regione è essere una regione assolutamente speciale e avere delle forze autonomiste che vogliono difendere questa autonomia e con quel risultato lì mi sembra che le cose non siano io penso che gli elettori abbiano voluto dare un segnale nei confronti di chi ha governato di chi come dicevo prima non ha dato risposte alle esigenze dei cittadini e ha premiato quelle forze che hanno presentato un programma molto chiaro da una parte 5 stelle e da una parte il centro-destra e in particolare nel centro-destra la Lega perché in effetti anche io sono rimasto sorpreso al risultato di Forza Italia non pensavo che ottenesse un consenso così basso rispetto alla sua storia ma in ogni caso le forze del centro-destra unite rappresentano una percentuale ottengono una percentuale molto importante che permette di guardare con serenità le prossime elezioni regionali e comunali visto che lei è un esponente della Lega di lungo corso che cosa ne pensa della svolta che ha dato Salvini che in questo momento l'ha sicuramente premiato e anche l'allargamento diciamo a quello che poteva essere il suo target non solo al nord ma anche al sud Italia ha premiato questa scelta soprattutto nel centro Italia forse nel sud non tantissimo perché nel Lazio la Lega ha ottenuto percentuali molto alte a due cifre non parliamo poi della Toscana dell'Umbria dove la Lega ha avuto veramente degli ottimi risultati quindi è una scelta che ha dato ragione a Salvini il nostro è diventato un movimento che si pone a dare soluzioni a tutto il paese quindi non solo difendere il nord però tengo ancora a precisare che al nord i risultati sono altissimi nel Veneto le percentuali che il partito della Lega ha ottenuto sono veramente quasi bulgare no? cioè un consenso plebiscito un plebiscito che raggiunge quasi il 50% degli elettori ecco diciamo che le varie anime della Lega però comunque continuano a coesistere no? perché non c'è una sola Lega no c'è una sola Lega perché non vedo altre Lega abbiamo avuto qualche anno fa qualche visto che si parlava di Zaia beh Zaia è un ottimo governatore mi sembra che la Lega nel Veneto abbia ottenuto il risultato più alto in tutta Italia quindi significa che la gente premia questo governatore premia il partito a cui lui appartiene magari fra un po' andremo anche a vedere Monica qualche dato nazionale visto che per adesso ci siamo concentrati sulle regionali però dacci questo tipo di aggiornamento appunto per la Camera al Collegio Uninominale di Pordenone anche qua è terminato lo scrutinio confermata quindi la percentuale vittoriosa di Vania Gava a proposito di Lega che ha raggiunto il 46,22% dei voti con la Lega al 28,07% Forza Italia all'11,37% poi Fratelli d'Italia al 5,9% quasi noi con l'Italia a quasi il 0,9% Giovanni Scottà del Movimento 5 Stelle ha ottenuto poco più del 23% e per il centrosinistra Giorgio Zanin il 21,7% col Partito Democratico intorno al 18% dei voti ecco qui vediamo un'altra sfida che è stata vinta dalla coalizione del centrodestra che in tutti i collegi dell'Uninominale si è affermato con veramente una debacle una sconfitta netta da parte del PD che addirittura nei collegi è terzo dopo il Movimento 5 Stelle che avanza ulteriormente anche nella nostra regione pur non conquistando comunque le percentuali anche nel resto d'Italia Monica torniamo magari sulla sfida di Trieste sul nazionale fra poco scusa se ti ho fatto un po' di confusione perché ti ho dato più input contemporaneamente ma visto che stiamo parlando di questo vorrei sollecitare anche Fontanini a commentare il risultato di Trieste sì il risultato di Trieste perché effettivamente c'è una bocciatura netta nei confronti della presidente Deborah Serracchiani fa un po' il così è un po' un fil rouge bocciatura di Renzi a livello nazionale perché almeno questo viene ascritto al PD come colpe bocciatura della Serracchiani in regione certo non solo bocciatura della Serracchiani ma anche bocciatura di Illy che era stato il predecessore della Serracchiani che governava con la sinistra questa regione quindi tutti e due bocciati e soprattutto la bocciatura della Serracchiani la dice lunga io sono contento perché Tondo si è preso una rivincita dopo aver perso cinque anni fa proprio contro la Serracchiani le elezioni regionali quindi una politica sbagliata da parte della Serracchiani in questa regione che è stata punita dai cittadini dagli elettori con questo risultato molto molto forte io direi clamoroso perché tra l'altro la Serracchiani è scomparsa non si sa più dov'è era sempre presente nei grandi mass media e da un paio di settimane che non si vede più si è concentrata sulla campagna elettorale a Trieste ha avuto molti incontri sul territorio nonostante abbia lavorato per cinque anni a Trieste nella giunta al governo della regione evidentemente questo non è bastato addirittura sorpassata dal candidato del Movimento Cinque Stelle stesso dicasi per Illy e Stabile questa era l'altra sfida a Trieste con l'ex governatore della regione sicuramente una persona molto conosciuta con una storia politica e un'esperienza notevole candidato come autonomo tra l'altro quindi una figura che poteva anche avere così un ruolo super partes non è stato così perché ha perso malamente anche qui vediamo l'elezione di Stabile con 100.000 voti Monica con il 39,4% di voti le sezioni sono state tutte scrutinate quindi in dato confermato l'elezione come abbiamo detto è confermata Riccardo la Lega in particolare ha ottenuto poco più del 22% Forza Italia poco più della metà 11,4% ricordiamo Fratelli d'Italia al 5,2% quasi noi con l'Italia al 0,7% Riccardo Illy come ha detto è al 26,4% il Partito Democratico in particolare ha ottenuto il 21,9% dei voti e poi più Europa il 3,5% a seguire gli altri partiti che hanno ottenuto voti al di sotto dell'1% Pietro Negli per il Movimento 5 Stelle lo ricordiamo ha ottenuto il 25,9% dei voti mentre Serena Pellegrino di Liberi Uguali il 3,36% i voti del Movimento 5 Stelle secondo lei da dove arrivano? perché a questo punto è un interrogativo che investe anche le altre forze politiche Forza Italia PD visto l'arretramento di questi partiti io penso che arrivino moltissimi dal PD perché il PD ha avuto questo crollo quindi c'è stato un travaso di voti dal PD che sono passati ai 5 Stelle e poi penso che una buona componente sia da iscrivere anche a coloro che hanno partecipato magari a queste elezioni 5 anni fa magari non avevano votato perché la percentuale dei votanti è molto buona e quindi un po' di indecisi hanno premiato il 5 Stelle io non penso come qualcuno dice i giovani perché alla Camera ad esempio la Lega ha fatto un risultato migliore rispetto al Senato quindi significa che i giovani li abbiamo intercettati più noi che noi con il 5 Stelle anche se ci sono parecchi giovani che votano il partito del 5 Stelle la spaventa la crescita così impetuosa del 5 Stelle? no perché è un segnale di volontà di discontinuità in questo paese quindi bisogna cambiare politica bisogna mandare al governo forze nuove che siano alternative a chi in questi anni la sinistra ha governato l'Italia è un segnale sotto questo aspetto molto chiaro molto chiaro le persone vogliono nuovi protagonisti nuovi governi a questo punto però gli scenari da questa elezione nazionale investono necessariamente anche quelli locali in vista delle elezioni del 29 di aprile e qui la voglio perché Fontanini ci sono ancora due nomi due nodi da sciogliere in maniera definitiva quello di Riccardo Riccardi per il centrodestra in regione e il suo per le elezioni comunali qui poco tempo fa pochi minuti fa c'è stato Roberto Novelli che ha detto del risultato della Lega diciamo ci interessa relativamente noi rivendichiamo il nome di Riccardo Riccardi in regione come era negli accordi precedenti al voto il 4 marzo noi siamo sempre stati solidari nei confronti della Lega e quindi è giusto che in questo caso il candidato sia Riccardi cominciamo da qua poi veniamo alle comunali ma senz'altro a livello di solidarietà forse ne abbiamo data più noi per eleggere molti parlamentari con i voti della Lega in questa tornata elettorale per quanto riguarda il candidato alle regionali certo bisogna in questa settimana bisogna decidere chi sarà il candidato io spero anzi è fondamentale che il gruppo sia unito come è stato unito per le elezioni alla Camera e al Senato parla del centrodestra perché senza un'unità senza una volontà comune di partecipare alle elezioni regionali con un candidato espressione centrodestra la partita diventa veramente difficile quindi bisogna trovare una soluzione e dobbiamo trovarla entro questa settimana come pensate di fare convocherete un tavolo avete già senza altro ci sarà un tavolo ci sono già stati molti quindi in questo tavolo troveremo insomma come si dice la quadra per il candidato presidente alla regione pensa che possa essere un candidato della Lega a questo punto visto il cambiamento di di vento il vento è girato e tra l'altro tutto il nord Italia è appannaggio della Lega perché c'è Fontana che tra l'altro non abbiamo neanche parlato delle regionali ma Fontana in Lombardia in vantaggio Sugori in vantaggio notevole quindi probabilmente anzi adesso magari vediamo se ci sono i dati definitivi delle regionali in Lombardia però Fontana in Lombardia per la Lega Zaia in Veneto qua a questo punto potrebbe esserci un nome della Lega potrebbe esserci un nome della Lega però non è questa una cosa fondamentale noi ci teniamo più la squadra beh in Liguria c'è un presidente di Forza Italia quindi la questione l'importante è che la discussione e il confronto trovi una persona valida una persona importante e che tenga unita la coalizione di centro-destra questo è fondamentale quindi mantenere unita la coalizione che ha lavorato e ha ottenuto questi ottimi risultati in questa elezione nazionale venendo invece al Comune direi che ormai quando diamo la conferma definitiva del suo nome ma anche questa è una questione legata a questo benito tavolo io penso che una volta risolto il problema candidato presidente della giunta regionale subito si risolverà anche il candidato sindaco qui nella città di Udine certo che veder la Lega al 20% Udine dà una certa fiducia non abbiamo mai raggiunto un risultato a questo livello eravamo al massimo storico che abbiamo avuto abbiamo avuto qualcosa più del 10% quindi il 20% veramente per noi ci dà grosse speranze e soprattutto ci dà quelle motivazioni per fare una campagna elettorale forte ma anche qui ci vuole l'unità del centro-destra perché è fondamentale essere uniti e lavorare assieme anche perché ci siamo già confrontati sui programmi e c'è una una formula comune insomma per quanto riguarda il programma ci troviamo d'accordo su tutti i punti non ci sono distinzioni differenze come magari a livello nazionale dove ci sono alcune sfumature qui veramente in città il centro-destra aveva già trovato la quadra insomma sul programma quindi lei non ha timori da questo punto di vista ormai manca solo l'ufficialità no timori insomma e poi bisogna fare la campagna elettorale bisogna convincere i cittadini a votare il candidato del centro-destra alla carica di sindaco quindi è una cosa non tanto semplice ci vuole lavoro ci vuole presenza ci vuole impegno insomma una cosa non tanto semplice certo comunque che Martino e Sebolzonello questa mattina sorridono meno di voi sicuramente sì penso di sì perché i risultati delle politiche certo ci danno una forza che speriamo si traduca anche alle regionali alle comunali per Udine forse un po' presto per fare dei programmi elettorali però perché la campagna deve ancora cominciare però per Udine quali sono secondo lei le emergenze da affrontare in primis ma senz'altro la sicurezza Udine vive moltissimo questo problema la politica fatta dai sindaci di sinistra in questi anni hanno premiato chi anche qui chi non era di Udine ma che veniva da altre parti e trovava in Udine una grande accoglienza e dimenticando le esigenze dei cittadini di questa città e poi c'è un problema anche di degrado della gestione corrente un po' della cosa della città di strada i marciapiedi cose banali che però la gente sente come cose prioritarie quindi dobbiamo dare a questa città un nuovo volto e soprattutto dare risposte rapide ai problemi piccoli e grandi che la gente sente però il bando della Cavarzerani ad esempio che è uno dei temi caldi è ormai già stato però è uno scandalo è uno scandalo anche questo voto è un segnale di protesta la gente non condivide questi milioni che sono spesi per questi giovanotti ripeto che vengono dal Pakistan e dobbiamo mantenerli all'interno di una struttura ma il prefetto potrà tornare indietro su questo voto ma se cambia il governo il prefetto deve obbedire a quello che dice il governo quindi io penso che se si farà un governo di centrodestra le linee che il prefetto di Udine ha portato avanti in questi anni cambieranno radicalmente si cambierà radicalmente a livello nazionale si cambierà radicalmente anche a livello locale almeno questi sono gli esiti gli scenari che si potrebbero aprire anche in regione Monica torniamo sul web torniamo a dare un'occhiata viaggiorniamo anche sul fronte del senato il collegio unionale di Udine dunque confermato al senato Luca Ciriani con la vittoria dunque del centrodestra con il 46,58% dei voti in questo caso la lega ha ottenuto il 27,7% Forza Italia il 12,08% Fratelli d'Italia al 5,6% noi con l'Italia quasi l'1,2% il Movimento 5 Stelle con Maria Chiara Santoro si è fermato al 23,2% mentre il centro-sinistra con la candidata all'uninominale Isabella De Monte al 22,24% il Partito Democratico in particolare ha raggiunto il 18,7% dei voti andiamo invece a riaggiornarci sulla camera e vediamo qual è la situazione dei collegi nel territorio dunque restano ancora 5 sezioni come detto riguardiamo anche il collegio in cui particolare c'erano gli occhi puntati perché appunto quello in cui si sono sfidati Tondo e Serracchiani dunque il collegio di Trieste mancano ancora due sezioni ma Renzo Tondo lo ricordiamo ha ottenuto oltre il 38% dei voti mentre il seguito dal candidato del Movimento 5 Stelle Vincenzo Zoccano che ha ottenuto il 25,9% e Deborah Serracchiani al 25,87% rispetto ai risultati finora ottenuti siamo andati un po' sull'account Twitter di Renzo Tondo che commenta così mi avete sostenuto avete creduto in me ancora una volta grazie a tutti assicuro il mio impegno consapevole della responsabilità che mi assumo per ripartire assieme grazie ancora questi alcuni commenti a caldo intanto confermato Attilio Fontana ha staccato Gori in Lombardia eccoci qua un vento eccoci grazie Monica che così diamo uno sguardo anche alle regionali eccoci allora all'Ansta aspetta magari riproviamo a riaggiornarlo per sicurezza eccoci qua le regionali dunque in Lombardia Attilio Fontana rispetto ai dati forniti in base all'ultimi exit poll disponibili Attilio Fontana tra il 38 e il 42% in Lombardia rispetto a Giorgio Gori al 31-35% in Lazio invece in vantaggio Nicola Zingaretti per il centro-sinistra con la percentuale di voti tra il 30 e il 34% e Roberta Lombardi invece nel momento 5 stelle tra il 25 e il 29% a seguire però Stefano Parisi per il centro-destra tra il 26 e il 30% grazie Monica Zingaretti l'ultimo baluardo del PD vorrei definire un PD che è in discesa notevole anche nelle regioni storicamente suo appannaggio Toscana Emilia-Romagna i dati dell'Emilia-Romagna sono veramente nefasti per quel che riguarda il PD Fontana avanti pur contro un candidato molto diciamo moderato come Gori in Lombardia Zingaretti a questo punto veramente è l'unico baluardo del PD essere l'unica consolazione del PD in queste elezioni perché hanno perso dappertutto io tornerei ancora nella nostra regione pensate Deborah Seracchiani arriva terza terza cioè è una cosa incredibile incredibile cioè Tondo la bate ma è battuta anche dai 5 stelle è un dato clamoroso anche questo è una sonora bocciatura per la regione se Renzi darà le dimissioni come è probabile perché tutti si aspettano le dimissioni del segretario del PD penso che anche la Deborah Seracchiani debba fare un bel pensierino su questa regione forse dare le dimissioni anche da governatrice subito per frequenza Giulia c'è stato sicuramente una bocciatura del renzismo possiamo dirla così dopo la bocciatura del referendum perché anche questo era una misura di valutazione di quelle che erano state le politiche proposte in maniera molto vemente da Renzi c'è stata anche la bocciatura adesso alle politiche quindi 15 mesi di sonore bocciature per Renzi e il suo entourage anche se non sbaglio Maria Elena Boschi dovrebbe essere in vantaggio in Trentino però dopo proviamo a fare un giro anche da quelle parti ma lì sono i voti i voti da Suttirole Fospartide quelli votano perché gli hanno detto di votare è un voto di simbolo è andata a trovare proprio il posto più sicuro per essere eletta ecco questo è il risultato di Maria Elena Boschi dopo magari lo andremo a vedere nel dettaglio però c'è una bocciatura del renzismo forse si attendono le dimissioni proprio di Matteo Renzi da segretario non ha saputo intercettare il voto moderato di Forza Italia non ha saputo erodere il voto di protesta del Movimento 5 Stelle direi guardando i voti di oggi i risultati di oggi liberi o uguali non li ha tolto granché no non li ha tolto granché Renzi è stato sconfitto in maniera molto forte ha detto bene ha cominciato questa debacle con il risultato del referendum quando è stato bocciato anche quello in maniera molto forte ma io dico anche che in questa regione da anni si sta assistendo allo sconfitta della sinistra ha iniziato il comune di Trieste poi Pordenone il comune di Pordenone il comune di Gorizia la città di Monfalcone dove la Lega ha fatto eleggere un sindaco donna in una città che era sempre stata di sinistra quindi i segnali anche in questa regione c'erano c'erano ed erano molto forti che indicavano in pratica che la sinistra era perdente stava perdendo però la Deborah Seracchiani ha fatto finta di niente hanno continuato una politica ancora sbagliata e siamo arrivati alle conseguenze di oggi con le politiche che hanno dato quei risultati dove la Deborah Seracchiani arriva terza nello scontro diretto con il centrodestra e i 5 Stelle un dato che comunque è in linea con tutte le sfide nell'uninominale perché il centrosinistra sconta non solo il vantaggio del centrodestra ma anche del movimento 5 Stelle quindi da questo punto di vista ha perso e ha perso anche a Gorizia dove qualcuno sperava che tenesse in quella realtà che era data insomma così un po' in bilico che il centrosinistra riuscisse magari a spuntare con Brandolin anche lì ha vinto il candidato di centrodestra quindi Capotto come si dice in questa regione a favore del centrodestra Capotto per il centrodestra con la Lega che a questo punto affila le armi e si presenta allo scenario delle regionali e delle comunali forte di un vantaggio notevole ottenuto dalle urne io ringrazio Pietro Fontanini per essere stato con noi grazie a voi e ci rivedremo perché ci rivedremo presto perché c'è un'altra campagna da affrontare in questa regione dovremo votare per le regionali e nella città di Udine per le comunali perfetto grazie a Pietro Fontanini noi ci fermiamo per un momento rimanete con noi e fra poco con altri ospiti abbiamo raccolto i dati degli scrutini in regione e in Italia facendovi una panoramica insieme a Monica Nardini di quella che è stata questa tornata elettorale sia per l'uninominale sia per il proporzionale abbiamo avuto ospiti Roberto Novelli di Forza Italia e Pietro Fontanini della Lega e adesso a fare i conti di questi esiti elettorali abbiamo il Presidente dell'Assemblea Regionale dell'EPD Salvatore Spitaleri buongiorno 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 a tutti i nostri ascoltatori l'abbiamo già visto ieri sera sui nostri schermi un'ottata in bianco anche per lei è stata però una serata una serata un po' difficile penso la serata è stata difficile e complicata anche perché i risultati via via che prendevano corpo davano il senso di una situazione complessiva molto molto problematica cioè non solo riferita eventualmente alla nostra regione ma a un quadro nazionale un quadro come dire dell'intero paese che da oggi ha un altro viso un'altra faccia un altro anche tipo di impostazione questo va riconosciuto assolutamente il gran numero dei cittadini e delle cittadine che hanno espresso il loro voto ieri nonostante tutte le polemiche su una legge che doveva allontanarli e invece i cittadini per fortuna rispondono sempre come dire in maniera forte all'appello al voto e dico questa legge oggi ci ridisegna un quadro politico fortemente modificato sul quale evidentemente il partito democratico si dice dovrà riflettere più che riflettere dovrà probabilmente in tempi molto celeri anche svoltare ecco questo è uno dei come dire delle riflessioni di queste ore dove superata come dire la botta inizia a esserci anche la lucidità o quel piccolo spazio di lucidità di ragionamento ecco una sconfitta quella del PD a livello nazionale che poi viene ricalcata anche a livello regionale con le sfide anche nell'uninominale che vi vedono dietro al Movimento 5 Stelle quindi una bocciatura a livello macro ma una bocciatura anche per esempio per la governatrice Seracchiani che in questo momento è terza a Trieste e che quindi evidentemente sconta forse una bocciatura del suo governo un po' come succede per Renzi a livello nazionale ma sicuramente va dato atto a Deborah Seracchiani di aver scelto comunque di fare una campagna sugli uninominali cioè di non nascondersi dietro come dire solo dietro i proporzionali ma di fare una una battaglia su un territorio che il governo regionale riteneva aver come dire curato con particolare attenzione il voto dei cittadini è diverso la Presidente Seracchiani come dire sta sicuramente facendo alcune valutazioni c'è un tema evidentemente di fondo il tema delle cose fatte o delle azioni proposte non è più sufficiente per affrontare le campagne elettorali e per come dire incontrare incontrare il consenso dei cittadini una riflessione lo dicevo anche ieri sera che stiamo facendo è quella che evidentemente non solo paga di più il tema delle promesse ma forse anche il centro-sinistra deve essere un po' più coraggioso sui temi di progetto di sviluppo e di futuro limitarsi come dire all'elenco delle cose fatte e difendere le cose fatte chiaramente non è stato sufficiente e questo è un elemento di riflessione anche per la campagna elettorale regionale che in queste ore ormai si avvia Ecco Novelli qua presente prima ha detto questo è stato un voto antisistema un voto che è andato a premiare quei partiti che diciamo non fanno parte tradizionalmente del governo quindi non i classici schieramenti centrodestra centrosinistra Forza Italia e PD che erano i due partiti più importanti della storia italiana della politica per lo meno in questi ultimi anni ovviamente quindi evidentemente c'è stato una forte voto di protesta o comunque di voglia di cambiamento un voto un voto sicuramente di cambiamento guardi se noi sommiamo adesso senza farne un ragionamento veramente come dire di numeri ma di 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 macro il consenso ottenuto dalla Lega e il consenso ottenuto dai 5 Stelle che sono stati i due movimenti più antagonisti anche alla stagione della stagione politica degli ultimi cinque anni a livello nazionale evidentemente si pone un segno di discontinuità i cittadini chiedono qualcosa di più alla politica e alle istituzioni è qualcosa di diverso che le ricette proposte dai singoli movimenti siano sufficienti o siano come dire adeguate lo scopriremo solo vivendo come si come si spesso si cita ma c'è un dato i cittadini rispetto a un tema forse difficile della responsabilità del sacrificio anche di alcune politiche di contenimento delle spese hanno espresso un senso di rivalsa un senso di contestazione spetterà adesso a questi movimenti offrirci qualche ricetta credibile per affrontare il domani ecco una domanda si attendono almeno già ieri si attendevano le dimissioni di Renzi e adesso Fontanini qua presente pochi minuti fa ha detto ma forse anche la Serracchiani potrebbe fare un passo indietro come governatrice della regione visto il suo risultato dalle urne che cosa dite in questo senso sono due situazioni diverse e distinte la prima evidentemente riguarda una valutazione che il segretario nostro segretario nazionale sta facendo rispetto a questo esito molto molto penalizzante il tema delle dimissioni della della presidente Serracchiani a parte che siamo come dire ormai veramente a scadenza a scadenza del mandato mi paiono come dire una richiesta una richiesta tutta politica comprensibile ma tutta politica noi confidiamo che la presidenta appunto possa essere eletta nella parte proporzionale e quindi evidentemente poi la presidente farà delle valutazioni rispetto alla possibilità di esercitare il mandato in questo il fine mandato ma sono ecco due situazioni molto diverse e molto distinte il segretario il segretario nazionale sta valutando è prevista come dire sono previste le comunicazioni per la tarda mattinata primo pomeriggio la presidente Serracchiani ha un compito ad oggi di governo di questa regione quindi staremo a vedere che cosa succederà sul nazionale e sul regionale invece bisogna anche attendere l'esito finale dei risultati perché noi stiamo ragionando solo sull'uninominale e magari chiedo a Monica un po' di supporto per fare un ultimo recap di quello che succede in regione poi prima di salutarci invece daremo uno sguardo anche al nazionale a te Monica Manca solamente una sezione da completare sono stati chiusi quattro seggi su cinque rispetto alle candidature alla Camera andiamo a vedere dunque assieme i risultati complessivi che vedono il centro-destra con il 42,9 quasi il 43% dei voti con la Lega sempre in netto vantaggio con quasi il 26% dei voti e Forza Italia al 10,7 il Movimento 5 Stelle che ha ottenuto il 24,5% dei voti e poi seguire il centro-sinistra col 23,08% col Partito Democratico al 18,66% questo è lo sguardo complessivo sulla Camera dunque andiamo a vedere i seggi chiusi andiamo a esplorare assieme le situazioni complessive dunque per quanto riguarda il collegio di Trieste sezioni chiuse confermata l'elezione di Renzo Tondo con il 38 vediamo se arrivo a visionarli insieme a voi oltre il 38% dei voti e poi vediamo se riesco a... no non riusciamo a visualizzare il dato definitivo non importa seguito ovviamente da Deborah Serracchiani con oltre il 25% di voti e poi non riusciamo tornato avanti non riusciamo a... ecco è tornato avanti rispetto al Movimento 5 Stelle Vincenzo Zoccano anche qua non è un risultato che ci consola ma... era filo di rasorio non riusciamo a vedere bene la cifra c'è qualche qualche problema continuiamo comunque col collegio di Gorizia sempre per la camera e vediamo dunque eletto per il centro-destra Guido Germano Pettarin con il 42,5% dei voti e... qual è il numero dei voti perché il Viminale che già prima non ci ha aiutato ci complica ancora di più la vita eccesso di fiducia in rapidità hai ragione non c'è più la percentuale facciamo così perché il sito del Viminale si sta un po' impallando per usare un termine poco ortodosso facciamo così Valentina allora visto che mancava anche una sezione ritorniamo magari tra un attimo se è stata attenta è meglio dare la percentuale vediamo se si sblocca comunque vediamo se si sblocca magari il sito del Viminale perché in questo momento e anche prima ci aveva messo in difficoltà anche perché ci dava la stabile vincitrice nel collegio con la metà dei voti con i calcoli cioè 50.000 invece di 100.000 quindi insomma abbiamo più volte avuto esperienza che i dati poi come dire devono essere consolidati stampati perché alle volte come dire la tecnologia ci supporta e ci accelera alcuni percorsi ma non sempre ci dà poi il quadro definitivo no non ci sta aiutando come dire i dati e i numeri sono in termini di votanti sono molto molto chiari insomma in molti territori noi anche nel territorio di Santino dove schieravamo un candidato come Giorgio Brandolini insomma certo che era un candidato molto forte che era un candidato esatto avevate molta fiducia molta molta fiducia paghiamo addirittura come dire questo non solo un centrodestra che tra Monfalcone e Gorizia aveva consolidato un suo consenso ma paghiamo anche questo boom dei 5 stelle che anche alle amministrative sia di Gorizia vado a memoria sia di Gorizia sia di Monfalcone non avevano poi raccolto un successo così significativo evidentemente i cittadini avevano anche chiaramente in mente un voto politico nazionale quindi anche il tema dei candidati agli uninominali è passato sicuramente in il secondo aspetto il voto il voto è stato un voto politico un voto politico sui simboli anche perché poi la campagna elettorale che voi avete seguito con grande attenzione avete visto come dire ha visto pochi protagonisti tra questi molti del partito democratico ma di altre forze come dire lasciate molto più come dire a un simbolo a un voto politico piuttosto che ai candidati agli uninominali vi aspettavate questo balzo in avanti della Lega in regione che addirittura è il primo partito rispetto anche ai dati nazionali che vedono invece il 5 Stelle come primo partito è totalmente sorprendente anche perché qui va dato merito ai dirigenti della Lega senza nessun problema anche perché la Lega proveniva da un percorso molto complicato negli ultimi anni vederla addirittura praticamente superare di una volta e mezza Forza Italia il radicamento che ha Forza Italia in amministratori in sindaci in consiglieri regionali lascia molto colpisce molto evidentemente come dico qui c'è un voto tutto tutto politico anche rispetto come dire a alcune tematiche e forse a alcune sottolineature che forze più moderate sia del centro-destra sia del centro-sinistra ritenevano eccessivo ma che hanno colpito gli elettori l'elettorato che evidentemente ha voluto dare un forte segnale di discontinuità rispetto al passato ci fermiamo un momento poi avremo quest'ultima parte fino alle 11.30 di approfondimento insieme anche a Monica Bertarelli candidata per la camera ci vediamo fra poco eccoci collegati in diretta ultima mezz'ora insieme a voi per raccontarvi gli esiti del voto di ieri insieme a Monica Nardini con tutti gli aggiornamenti dal web e dai social in studio con me per quest'ultima parte sempre Salvatore Spitaleri presidente dell'assemblea regionale del PD e mi ha raggiunto anche Monica Bertarelli candidata per la camera della lista civica Lorenzin buongiorno ben ritrovati è stata una lunga notte immagino sì è stata una lunga notte e anche come dire tra le non più semplici di quelle degli ultimi anni insomma per utilizzare qualche eufemismo ecco il Rosatellum premiava la coalizione coalizione che però per quel che riguarda il PD ha avuto dei voti di sostegno solamente diciamo a livello nazionale dalla lista Bonino dalla lista Euro più Europa della DMA Bonino perché le altre insieme e anche la Lorenzin poi magari Monica le chiederò un approfondimento in questo senso però tornando al PD ha avuto poco da queste liste di sostegno ma guardi c'è un dato adesso non per giustificare le altre delle forze in coalizione ma è evidente che in una campagna elettorale molto breve ricordiamo che appunto le liste della coalizione che accompagnava il PD si sono formate anche a ridosso delle elezioni fare una campagna elettorale in un momento come dicevamo poco fa dove la qualità delle persone dei candidati passa spesso in secondo piano rispetto ai simboli o ai riferimenti nazionali evidentemente non ha pagato per tutto il potenziale che poteva esprimere io devo dire la verità però ho visto i candidati e le candidate non per qui c'è la collega che ha corso in tutti i territori mostrando la propria faccia mostrando la qualità delle proposte probabilmente se il Rosatellum rispetto a questa capacità di valorizzare le candidature va un po' messo a punto questo è un rammarico che abbiamo avuto e che leggiamo oggi rispetto alla dimensione politica delle coalizioni laddove appunto forze importanti ma nuove o comunque di recente costituzione non hanno potuto esprimere tutto il loro potenziale ecco diciamo che la legge elettorale è stata presentata come un compromesso per cercare di arrivare a dare un governo al paese in questo momento la maggioranza comunque non c'è no la maggioranza non c'è poi come dicevamo prima e come nelle valutazioni nelle schermate si vedeva dovremmo trovare e dovremmo verificare la trasformazione in seggi effettivi di quelle percentuali perché il meccanismo è incrociato gli uninominali la parte proporzionale il governo non c'è e peraltro è difficile intuire già una ricetta non c'è solo un vincitore che domani mattina può andare dal Presidente della Repubblica a chiedere un'investitura ma non c'è neanche come dire una ricetta semplice veramente abbiamo non solo tre poli ma a questo punto la Lega che in qualche modo con le sue proposte si è molto contraddistinta e che probabilmente costituisce quasi un quarto polo all'interno della coalizione del centro-destra non più tripolare ma a questo punto si arriva alla quattro perché il dato della Lega le proposte della Lega e immagino a questo punto le legittime ambizioni della sua classe dirigente rispetto ai risultati di Forza Italia e delle altre forze della coalizione che legavano il centro-destra modifica ulteriormente il quadro anche perché comunque il programma elettorale e le decisioni in merito alle linee politiche del governo già nella fase di campagna sembravano abbastanza diverse fra abbastanza distinte fra Forza Italia e Lega intanto un'esperienza come quella di governo che ha contraddistinto alcune forze moderate del centro-destra come ad esempio noi con l'Italia e la civica popolare Lorenzin ha segnato forse il passo perlomeno non sono state premiate dalla cabina elettorale Monica Bertarelli come è andata? Ma come diceva Spitaleri è una lista che è nata alla fine è una lista che è nata pochi giorni prima della chiusura della presentazione delle liste quindi non si poteva aspirare a chissà quale risultato certo sicuramente superiore rispetto a quello ottenuto non è stato facile noi tra l'altro ci siamo battuti per contro un dato che è quello che è emerso invece da queste elezioni contro il populismo perché siamo una lista antipopulista quindi mi astengo da commenti che ho letto anche questa mattina aprendo il social network Valentina tu anche da giornalista cioè siamo abituate purtroppo a leggere e a sentire ogni sorta di commento alcuni deprimenti però il dato è questo in merito anche alle previsioni a quello che succederà a 5 stelle dove andranno se di qua e di là Mattarella cosa se le sentirà di fare sono tutte supposizioni che fin tanto che non succederanno lasciano il tempo che trovano ovviamente però diciamo che una proposta moderata che era quella che vi contraddistingueva e che contraddistingueva anche alcune forze delle centrodestra alcune liste di centrodestra non è stata premiata non è stata capita in questo momento storico non è stata capita ma secondo me è il dato più allarmante che non è stato capito qual è il ruolo in questo momento dell'Italia in un contesto europeo cioè noi io penso che che cosa sia emerso fondamentalmente da queste elezioni sia l'attaccamento dell'italiano alla bandiera quindi l'italiano può toccargli tutto addirittura secondo me anche le tasse però non la sua italianità quindi il tema dell'immigrazione tutte le fake news tutte queste notizie sbagliate tutti questi dati esagerati e sbagliati lo hanno indotto a scegliere quel partito o quei partiti che hanno impostato la loro campagna elettorale su due fattori fondamentalmente quello dell'italianità e quindi della contestazione di un'immigrazione secondo questi scriteriata quando invece il governo molto ha fatto sul tema dell'immigrazione e molto altro sicuramente c'è ancora da fare c'è da fare e tra l'altro degli ultimi mesi con Minniti da questo punto di vista sembrava che si fosse un attimo ridimensionato il problema ma infatti poi come dire qui continuiamo sentivo prima il presidente Fontanini che poneva come primo tema all'ordine del giorno dell'amministrazione futura possibile del comune di Udine il tema della sicurezza ora sicuramente c'è una sicurezza percepita che richiede un rafforzamento però tutti i dati reali tutti i dati reali danno elementi di forte contenimento del tema dell'immigrazione siamo passati da numeri fuori controllo a temi decisamente diversi e gestiti anche in maniera in maniera diversa un po' più oculata se perché come dire poi rispetto ad alcune emergenze hai anche quel dato lì è un tema della sicurezza che sulla città francamente poi se andiamo a toccare l'esperienza di ciascuno di noi vediamo come certi allarmi siano appaiono perlomeno esagerati poi il tema della percezione è un tema che passa attraverso altre altre onde però chi è impegnato nelle istituzioni ha anche un dovere di correttezza sui dati della realtà diciamo che questi temi non sono stati capiti non sono stati capiti no ma c'è i dati del ministero degli interni del 2017 parlano chiaro una diminuzione tra il 9 e l'11% sia infatti di tutti i crimini quindi dagli omicidi fino ai furti e rapine e sono dati sensibili sono dati importanti che non sono stati comunicati a dovere evidentemente quindi quello che dice Spitaleri la realtà percepita che è completamente difforme dalla realtà hanno indotto l'elettore a comportarsi in un certo modo il tema del politico ladrone è quello che lo ha toccato direttamente senza capire che invece in Italia un grosso problema è quello della spesa pubblica temi che trattano anche i bambini alle elementari alle scuole medie che sono quelli del debito pubblico e del PIL sono stati affrontati marginalmente il tema dell'Italia in Europa il fatto che noi siamo secondi solo alla Grecia per debito pubblico quante volte è stato detto mai troppe poche volte la responsabilità che ha l'Italia nei confronti dei propri cittadini per portare avanti un paese che comunque ha una vocazione anche all'esportazione con invece partiti che si sono affermati e che la pensano diversamente questo per me è un dramma è un dramma per la nostra crescita è un dramma per i nostri figli ma anche per il presente ma l'elettore non ha capito perché era preso dagli altri due temi Valentina quello dell'immigrazione e quello dei politici ladroni perché alla fine si è concentrato su quello però bisogna dare atto comunque all'elettore che pur avendo potuto verificare in campagna elettorale tutti i vari punti di vista ha fatto una scelta diversa purtroppo questa è la è la realtà dei fatti nel senso che comunque verificando in campagna elettorale credo che sia il PD sia la coalizione di centrodestra che la coalizione di centrosinistra e poi tutte le altre liste hanno affrontato i temi con la responsabilità di cui parlate voi o con la voglia di proporre un qualcosa di diverso come è stato fatto dal centrodestra poi la scelta purtroppo è caduta in maniera diversa sì va rispettata questa scelta assolutamente è una scelta come dire la nostra Costituzione affida quella matita copiativa per tracciare il simolo ai cittadini e quindi come dire su questo dato come dire questo dato è un dato non oggetto di discussione il tema è però il domani perché se la nostra analisi si ferma oggi all'esame dei risultati e oggi faremo questo naturalmente passeremo queste ore e queste giornate all'esame dei risultati così semplicemente senza portarci a quello che sarà domani in questo senso non aiutiamo i cittadini a cogliere il senso complessivo di quello che li attenderà e attenderà ciascuno di noi il quadro che i cittadini ci consegnano come forze politiche nel loro complesso è un quadro talmente articolato che sarà difficile costituire un governo e trovare come dire una linea sia anche quella più antagonista alle linee che il centro-sinistra ha portato in questo scenario di Parlamento c'è oggettivamente un voto che forse rispecchia il nostro paese un paese un po' spaventato molto frastornato molto incerto sulle ricette future il governo di centro-sinistra ha tentato e ha proposto una propria ricetta oggi non è la ricetta vincente peraltro come dire rimane l'incertezza su qual è la ricetta effettivamente vincente non c'è questa sicurezza di sicuro invece possiamo confermare che il vento di centro-destra soffia anche in Italia dopo aver soffiato anche nella vicina Austria ad esempio comunque andando un po' più indietro nel tempo parlando ovviamente di altri livelli si parla sempre degli Stati Uniti quindi effettivamente questa è un po' la tendenza che in regione tra l'altro ha raggiunto forse i livelli della Mora degli ultimi giorni perché una Lega a quelle cifre effettivamente poteva essere inaspettata torniamo sul web torniamo da Monica per vedere un pochino quali sono i risultati vediamo se il sito del Viminale si è sbloccato altrimenti facciamo un giro sulle testate nazionali qualche commento anche allora per la Camera manca ancora una sezione stando appunto all'ultimo aggiornamento abbiamo andiamo a vedere i collegi a questo punto e se c'è possibile avere i dati visualizzati in maniera agevole dunque per quanto riguarda il collegio di Trieste andiamo e Renzo Tondo ad essere stato insomma ad essere confermato come eletto con oltre il 38% dei voti a seconda Deborah Serracchiani dunque con più del 25% non c'è chiaro il distacco ma di poco rispetto il distacco è di 100 no meno di 25% 34 voti se riesco a leggere correttamente 30% 909 a 30% 875 insomma il distacco 25% 34% esatto ci sarà quell'ultima sezione non abbiamo il percentuale ma abbiamo l'idea almeno dei voti effettivi rispetto al Movimento 5 Stelle quindi Vincenzo Zoccano il candidato e poi per liberi uguali invece il candidato Fabio Omero si è attestato poco più del 4% andiamo al collegio adesso di Gorizia dove il dato che vediamo riguarda la conferma delle elezioni Guido Germano Pettarini abbiamo anche qui i voti complessivi che sono stati quasi 42.500 e poi anche qua non abbiamo il dato percentuale però insomma riusciamo a capire abbastanza le preazioni con Sabrina De Carlo che è seconda i voti assoluti sono molto chiari con 32.000 e appunto Sabrina De Carlo del Movimento 5 Stelle seguita dal candidato del centrosinistra Giorgio Brandolin ha fermo a 28.530 voti andiamo anche nel collegio di Udine anche in questo caso un voto effettivamente molto negativo per il PD con il Movimento 5 Stelle con la candidata Sabrina De Carlo che effettivamente è emersa dalle famose referendari regionali che loro hanno condotto sul blog però oggettivamente con un'esperienza politica con il gruppo consigliare ma sicuramente non paragonabile a quella di Pettarin si scusi di Brandolin secondo me Giorgio Brandolin era parlamentare uscente è stato presidente della provincia insomma anche questo è un elemento come dire forse importante poi in un'analisi che faremo nei prossimi giorni evidentemente il successo relativo della De Carlo nel senso che come seconda e il distacco di voti perché poi vedevo nella schermata sono circa 8 mila voti di differenza se non ho fatto male i calcoli segna che anche come dire che i cittadini poi veramente in questo momento si sono affidati al simbolo alla proposta alla scelta proprio politica totalmente politica la De Carlo è sicuramente un ottimo funzionario è sicuramente della regione del gruppo è sicuramente una militante però evidentemente su quel territorio lì come dire poteva avere una riconoscibilità limitata ha avuto come dire invece la riconoscibilità del simbolo la riconoscibilità del simbolo torniamo a vedere cosa succede in regione Monica sì allora ritorniamo andiamo nel collegio di Udine un attimo che il sistema ce lo sta facendo visualizzare anche qui abbiamo un'unica sezione che manca dunque Udine 287 su 288 come leggiamo però vediamo il candidato di centrodestra Daniele Moschioni con il 43,36% di voti rispetto al quasi il 24% del candidato del Movimento 5 Stelle Domenico Balzani che comunque ha più voti rispetto anche al candidato del centro-sinistra Francesco Martinez che ha il 23,27% Chiara Casasone invece di Liberi Uguali è 3,11% e poi a seguire gli altri velocemente diamo uno sguardo anche al collegio di Codroipo sempre per la camera e qui sono state le sezioni completamente scrutinate quindi confermata Sandra Savino del centrodestra con quasi il 48% dei voti e poi seguita da Aulo Cimenti del Movimento 5 Stelle con il 22,72% e a seguire ancora la candidata del centro-sinistra Silvana Cremaschi che ha raggiunto il 20,32% di voti Carlo Pegorerdi Liberi Uguali invece il 2,62% ecco anche questo è un dato molto negativo per il PD sia per quel che riguarda appunto Martinez che per la Cremaschi che tra l'altro era anche qua ospite ieri sera andiamo a vedere anche Pordenone per chiudere il quadro il quadro come vediamo assieme per Pordenone risulta insomma confermata per la camera Vagna Gava con oltre il 46% di voti anche in questo caso non vediamo la percentuale ma insomma già dalla montare dei voti abbiamo l'idea dell'ampio distacco 76.687 voti rispetto alla candidata del Movimento 5 Stelle Giovanna Scottà che ne ha avuti 38.397 e meno di 2.000 di distacco da Giorgio Zanin della coalizione di centro-sinistra che ne ha avuti 36.033 e poi vediamo anche Veglia Cassand di Liberi Uguali che ha avuto quasi 4.000 voti di 3.971 Marcus Normaer per patto per l'autonomia ecco questa 3.394 il dato del patto dell'autonomia è un dato interessante nel senso che il patto per l'autonomia con il professor Sergio Cercotti aveva molto investito in queste elezioni anche per farne probabilmente un test per le regionali io francamente ritengo che i temi dell'autonomia così come Sergio Cercotti li aveva declinati e come in qualche modo si sono sviluppati in questi anni forse possano trovare rispetto a come dire al rischio di una insignificanza di una proposta individuale una forma anche di attenzione di alcune forze politiche rispetto alla Lega e ai 5 Stelle evidentemente la proposta dell'autonomia e rispetto al modello che la Lega e i 5 Stelle hanno in testa di autonomia rispetto all'autonomia che in questa regione per come si è sviluppata per come è stata pensata probabilmente possono trovare uno spazio io spero che ci sia un possibile anche in vista delle regionali un possibile punto di dialogo e di incontro di dialogo con il patto con l'autonomia assolutamente noi lo perseguiremo sicuramente questo è uno spunto interessante Monica abbiamo il commento anche social di Vagna Gava non l'abbiamo ancora per tutti i candidati ma insomma già da un po' ha scritto ha ringraziato quando ha persa chiara la sua vittoria grazie alla mia splendida sezione di Sacile alla segreteria provinciale insomma tutti i ringraziamenti di rito tra cui ovviamente anche a Massimiliano Fedriga e Matteo Servini che dice Gava per aver creduto in me ma soprattutto grazie a tutti voi che con la vostra fiducia e con il vostro voto alla Lega avete contribuito quindi al risultato e quindi un ringraziamento agli elettori abbiamo riportata dall'Ansa anche insomma una parte di commento di Fedriga si parla andiamo nel sito dell'Ansa che così la visualizziamo anche in forma più gradevole quindi ovviamente si fa il punto su come nella regione la Lega abbia ottenuto un risultato importantissimo verso il primo partito questo è il titolo delle 10 e 12 e Fedriga che ha detto ovviamente che è un risultato al di sopra delle aspettative siamo contenti perché è stato accolto il messaggio lanciato dalla Lega in questi anni in cui fare l'opposizione sembrava quasi qualcosa di sbagliato abbiamo anche c'è una bella stoccatina a qualche collega di coalizione certo perché è interessante vedere anche come cambieranno gli scenari da oggi in poi in vista delle regionali in vista dei nomi dei candidati sia per la regione che per il comune che abbiamo avuto Fontanini prima ha detto spero che arrivi l'ufficialità a breve perché in ogni caso adesso la situazione è cambiata comunque ha rimandato in maniera molto diplomatica a un tavolo ha convocato questa settimana la proclamazione del vincitore di questa corsa mentre invece Novelli ha detto il nostro candidato Riccardi si era deciso già da prima e quindi non si cambierà da questo punto di vista questa è una richiesta di Forza Italia ma il braccio di ferro fra i due partiti continuerà sicuramente ancora adesso staremo a vedere come cambieranno anche le dinamiche il peso sulla bilancia Monica c'era ancora questa parte di commento di Fedriga dove ha detto ha spiegato in questi giorni ci incontreremo per scegliere definitivamente il candidato presidente la scelta si farà indicando le persone che possano rappresentare la coalizione quindi non utilizzeremo sicuramente il bilancino questa dichiarazione di Fedriga noi attendiamo anche di certo questi risultati peraltro consegnano anche al centro-destra come dire un dovere anche di proposta chiara per i cittadini del Friuli Venezia Giulia e non solo per le forze le altre forze che competono alla partita sono quattro mesi che stiamo attendendo attenderemo ancora chi il centro-destra proporrà come candidato alla regione è evidente un dato però mi permetto se è vero quello che abbiamo detto 30 secondi fa che il voto è stato molto orientato sui simboli quando scendiamo sulle dimensioni regionali e sulle dimensioni comunali io come dire chiederei un pizzico di attenzione a non fare come dire il famoso copia e incolla perché i metodi elettorali sono completamente diverse e là in quei casi anche come dire la statura e il profilo delle candidature ha una valenza diversa ci sono le preferenze con evidentemente i candidati non il listino bloccato ecco la situazione fare una fotocopia in questo momento dire non solo noi riteniamo di poter giocare comunque una partita inviterei ecco tutti se è vero quel ragionamento che abbiamo fatto dicendo che sono stati premiati simboli anche a prescindere dalla persona a non poi oggi fare come dire una stretta correlazione anche sul voto regional vedremo se alle regionali ci sarà un diverso rapporto con il candidato come è sempre stato fino ad adesso in maniera tradizionale insomma conta di più teoricamente il legame con il territorio però vedremo perché come dicevamo prima questo vento è più una bora e come si riparte adesso dopo questo esito dalle urne come si riparte per quanto mi riguarda personalmente deciderò diciamo che un dato è stata un'esperienza nuova è stata un'esperienza nuova si tornerò a fare il mio lavoro non l'ho mai sospeso se non quello di giornalista perché per ovvi motivi ovviamente però sai Valentina mi occupo di comunicazione perciò continuerò a farlo e una una componente importante del mio impegno era costituita dal futuro delle mie bambine sai quanto sono legata a loro e quindi vedere certi scenari sinceramente mi preoccupava e mi preoccupa tuttora l'aspetto della moderazione che ritengo fondamentale in questo momento per il nostro paese è stato snobbato cioè non è stato valutato a dovere ma anche insomma dai prossimi atteggiamenti in ambito regionale si vedrà quanto importante possa essere questa componente che non ho la sfera magica ma presumo non sarà sicuramente il lato trainante dell'atteggiamento politico che sarà condotto da qua in avanti perciò adesso rimango a vedere aspetto guardo bisogna metabolizzare un po' questo risultato bisogna metabolizzare e capire però ecco tornando al discorso prima di spitalieri anche il tuo sicuramente è un dato politico però vediamolo a monte anche questo dato politico perché la lista e perché non il candidato perché comunque c'è io ribadisco questo concetto in maniera molto meno diplomatica di quanto si possa o si debba fare perché ripeto per me la comunicazione schietta paga non le accuse non altri atteggiamenti ma la schiettezza la politica ha creato dissapori la politica ha creato la politica concepita diciamo nel vecchio modo e quindi chi proponeva e chi ha proposto qualcosa di nuovo ha vinto per questo motivo ma secondo me l'elettore non guardava al futuro ha guardato al passato che è ancora peggio perché se un elettore ha la lungimiranza l'intelligenza con questo non voglio denigrare l'elettore perché in prima persona posso anche rappresentare lo scontento per quello che è successo però bisogna guardare bisognerebbe guardare avanti perciò dico se noi il dato se noi il voto l'abbiamo espresso per quanto abbiamo vissuto negli anni passati sì quanto può essere costruttivo guardando al futuro sì diciamo che è stata premiata una uno scontento un malcontento diffuso e la promessa di qualcosa che sarà ma di cui non ci sono ancora dati effettivi sì diciamo che effettivamente in questo momento la campagna elettorale si è giocata molto su delle promesse che sono state definite in vario modo ma poi la fattibilità di queste misure questo vale per entrambi gli schieramenti per dire la verità deve essere tutta misurata facciamo un'ultima panoramica riguardo a quello che è le reazioni del voto nazionale diamo uno sguardo anche quello che è l'esito nazionale Monica non solo sulla regione poi chiudiamo questa lunga diretta dedicata ai risultati Per quanto riguarda i risultati per la Camera a livello nazionale vediamo come sempre intorno al 37% la coalizione di centrodestra in netto vantaggio con la Lega al 17,6% e Forza Italia al 14% per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle i voti al momento danno un 32,5% e la coalizione di centrosinistra al 23% circa col Partito Democratico sotto la soglia del 20% continua a essere confermato un voto inferiore un 18,8% in particolare diamo un'occhiata veloce anche a Liberi Uguali al 3,42% questi appunto i dati rispetto alla Camera però le sezioni scrutinate sono all'incirca 58.359 rispetto a un totale di 61.401 Rivediamo anche un dato che ho osservato scorrendo la pagina che ad esempio la lista di Mabonino non raggiunge il 3% questo è uno degli altri elementi su cui anche questa è una sorpresa anche questa è una sorpresa tra l'altro lista appunto chiamata più Europa evidentemente il vento anti-europeista anche in questo caso ha penalizzato la lista di Bonino mentre invece tutte le altre addirittura non raggiungono l'1% stesso dicasi per le forze moderate del centro-destra scorrendo andando in alto vediamo noi con l'Italia la cosiddetta quarta gamma non raggiunge neanche il 2% 1,31 questo è noi con l'Italia e Udc insieme Fratelli d'Italia se non sbaglio in linea con i dati del 2013 più o meno non c'è stata nessuna variazione di spessore il salto in avanti il balzo in avanti l'ha fatto sicuramente la Lega ha un salto triplo per quel che riguarda la nostra regione avanti col Senato velocemente anche il Senato ha uno sguardo generale quindi a livello nazionale i voti con 59.113 sezioni scrutinate rispetto a 61.401 vedono sempre il centro-destra in avantaggio con un 37,47% con la Lega che è quasi al 18% 17,8% e Forza Italia al 14,46% Fratelli d'Italia invece al 4,3% quasi e noi con l'Italia odici anche qui 1,2% il Movimento 5 Stelle ottiene un 32% poco più del 32% e per quanto riguarda la coalizione di centro-sinistra al 23,13% col Partito Democratico al 19,2% e poi anche qui più Europa sotto la soglia del 3% rispetto a Liberi Uguali la percentuale attuale di 3,29% anche questa è una considerazione Spitaleri Liberi Uguali non ha inciso più di tanto la scissione no beh la scissione ha inciso non ha Liberi Uguali la proposta di Liberi Uguali forse non è stata premiata insomma adesso noi siamo impegnati sulla dimensione regionale per cui mi sentirete da dire Liberi Uguali solo belle parole e quindi solo belle parole mi stai solo belle parole però però è evidente che come dire aver aumentato la conflittualità in maniera così esasperata all'interno del centro-sinistra pensando così di poter ottenere e catalizzare un voto di dissenso e di protesta non ha pagato questo è un dato di fare anche qui numeri ecco dopodiché dico siccome siamo impegnati sulle regionali Liberi Uguali insomma sono una forza assolutamente importante ecco però come dire sul dato nazionale quello e noi abbiamo molto sofferto non solo come partito democratico ma penso come elettori del centro-sinistra queste spaccature una campagna elettorale che come dire è stata fatta contro il partito democratico piuttosto che come dire verso come dire quelli che erano gli antagonisti naturali cioè il Movimento 5 Stelle e la Lega e quant'altro diciamo che comunque confidiamo di recuperare per le regionali ecco il voto sicuramente i voti persi da Matteo Renzi non sono probabilmente andati solo a liberi e uguali sicuramente la frammentazione non ha premiato la sinistra un ultimo commento da parte della De Monte e dall'online è arrivata una nota stampa alla nostra redazione un 18 minuti fa ho perso in un collegio molto difficile afferma l'erodeputata del PD storicamente dominato dalle forze di centrodestra ricordiamo che era candidata nel collegio senatoriale di Udine e Pordenone secondo De Monte le urne ci consegnano un paese frammentato ma in cui prevalgono chiaramente le due forze antisistema di protesta quale il Movimento 5 Stelle e Lega e la dimostrazione afferma De Monte che questi due movimenti sono stati in grado di intercettare in questa fase storica lo stato d'animo degli italiani delle loro inquietudini e ovviamente riflette su questo certo che qualificare un voto di protesta a un'espressione così chiara e forte da parte dell'elottorato potrebbe anche essere riduttivo nel senso che comunque è un voto alternativo non è un voto di protesta cioè quando il voto di protesta supera il 10% diventa evidentemente una proposta il vero dato è come questa proposta si dettaglierà perché all'interno della proposta ci sono tesi molto diversificate se prendete il programma dei 5 Stelle e il programma di Forza Italia e li mettete li accostate trovate certo qualche assonanza rispetto al tema dell'Europa rispetto ad alcune sottolineature ma per esempio trovate diverse differenze sostanziali rispetto al tema dei redditi di cittadinanza rispetto al tema del rapporto con la cosa pubblica rispetto al tema dei diritti comunque che i 5 Stelle in qualche modo in alcuni passaggi hanno voluto osservare rispetto evidentemente a una lega che ci ha proposto cancellazioni abrogazioni bambi proteste diciamo proposte più di protesta forse in alcuni casi ma che sicuramente hanno intercettato una larga fetta di elettorato una elezione una tornata elettorale che vede come vincitori Salvini e Di Maio a livello nazionale con la lega e il movimento 5 Stelle che fanno davvero paura a tutti gli altri in questo momento e con un paese spaccato in due sempre si parla di paese quindi livello nazionale con il sud che ha votato in blocco il movimento 5 Stelle il nord invece più solido nei confronti della lega le proiezioni tra l'altro regionali in Lombardia vedono Attilio Fontana in avanti anche se lo scrutinio comincerà questo pomeriggio lega che domina anche in regione per venire al dato regionale con il centrodestra primo in tutti gli scontri all'uninominale con la lega primo partito al 23% con il movimento 5 Stelle che si porta in avanti anche rispetto al PD sempre negli scontri all'uninominale con una bocciatura netta nei confronti del governo di Deborah Serracchiani che fa il pari con la bocciatura del renzismo a livello nazionale questo una estrema sintesi di quello che è successo questa notte che sta ancora succedendo io vi ringrazio per averci seguito in questa lunga diretta ringrazio intanto Monica Nardini che ci ha dato gli aggiornamenti dal web grazie Monica a voi tutti gli aggiornamenti ovviamente li restituiremo anche nel telegiornale di questa sera ovviamente TG di pranzo e TG di sera immancabili quindi rimanete collegati con noi per tutti gli aggiornamenti grazie Monica Bertarelli grazie a voi buon proseguimento grazie Salvatore Spitaneri grazie a tutti anche la pazienza anche la pazienza dei nostri ascoltatori grazie alla pazienza vostra che ci avete seguito la programmazione di Uni News continua non perdete ovviamente le nostre finestre sull'informazione vi daremo altri aggiornamenti sulle lezioni buona giornata grazie a tutti